Buon pomeriggio a tutti e tutti, grazie per essere qui. Questo momento di confronto nasce da una necessità che come l'Inc abbiamo avvertito ed è nata proprio nelle nostre assemblee, ovvero quella di provare a costruire insieme un momento di discussione, di approfondimento sul conflitto in corso. Questo chiaramente oltre la polarizzazione e un po' la comunicazione monotematica che ha preso il possesso dei media, dei giornali, giusto da un mese fa è iniziato l'attacco all'Ucraina e da allora non abbiamo avuto ancora tanta occasione di poter riflettere e ragionare seriamente su quello che sta avvenendo. Quanto avviene ci ha spinto da subito a aprire una discussione, una riflessione sulle diverse forme di violenza che attraversano la società e che vengono esercitate quotidianamente, quelle a cui viene dato tanto risalto mediatico, quelle che invece sono totalmente taciute e tenute sotto silenzio. Per questo abbiamo lanciato un manifesto, un manifesto degli studenti contro ogni guerra, degli studenti per la pace. Nell'ambito di questa riflessione crediamo sia importante andare a osservare da vicino i diversi livelli su cui si sta svolgendo il conflitto in corso, che sono livelli che trascendono quello strettamente geopolitico, ma che arrivano anche tanto a riguardare lo spazio virtuale, i linguaggi, i modi di comunicazione e quindi di costruzione, di immaginare, di racconto che vengono fatti. Andare un po' oltre quello a cui magari abbiamo assistito nell'ultimo mese e provare effettivamente a ricostruire complessità, un discorso complesso e più sfaccettato, che vada veramente al profondo di ciò che sta avvenendo, per provare insieme a capire qualcosa di più e qualcosa, diciamo, di meglio. E in questo senso ho, diciamo, veramente super piacere di poter, come dire, essere circondata da ospiti che ci hanno, come dire, ci onorano della loro presenza e non uso parole troppo pesanti perché ne siamo molto convinti, quindi ringrazio veramente tutti i partecipanti a questo tavolo. Do subito la parola al professor Gianluca Giannini, che è professore di filosofia morale, nonché coordinatore del corso di studi triennale in filosofia del Dipartimento degli Studi Umanistici che ci ospita oggi, per il suo intervento che, appunto, a titolo proprio Guerra e Nuovo Ordine Spaziale. Prego. È necessario il microfono? Io non sono granché portato. Ok. Vabbè, allora lo tengo. Allora, innanzitutto sono io invece che ringrazio la rete link degli studenti, in particolar modo quelli del DSU, un piccolo inciso rispetto all'organizzazione di questo pomeriggio. In realtà, quando una decina di giorni fa ne abbiamo chiacchierato con rappresentanze studentesche e sotto la spinta anche dei colleghi, De Biase e Arienzo, che ringrazio anche se non sono presenti, che in qualche modo si sono fatti a loro volta promotori di questo pomeriggio. Non abbiamo avuto grandi problemi nel coinvolgere anche, non solo studiosi più giovani come Pietro e Mario, ma anche l'amico Antonio Pescapè, che ringrazio della sua presenza per quanto è remoto, ma e per la sua generosità in qualche modo a intervenire oggi pomeriggio. Questo mi consente però di dire un paio di cose sul contesto e sul perimetro entro il quale la chiacchierata, la riflessione di oggi pomeriggio avviene. che in qualche modo è volutamente, ed è questa la cosa che mi ha molto convinto nella spinta iniziale da parte degli studenti e come ricordava Cristina in precedenza, il tentativo di riportare la questione che in qualche modo è di cronaca all'interno anche di un perimetro che in qualche modo è il più deputato anche a discutere e riflettere su determinate questioni. Cioè un po' tentare di sganciare l'oggetto guerra in Ucraina un po' dalle retoriche gazzettiere e semplificazioni anche di ordine mediatico a più livelli. Questo a me dice non solo come dire, di una motivazione di fondo da parte degli studenti che appunto sono stati il motivo iniziale dell'incontro di oggi pomeriggio ma anche complessivamente dello spazio entro il quale questo si colloca che lo ricordo a me stesso è l'Università di Napoli Federico II che sotto questo profilo una volta di più dimostra di essere un perimetro che muove e si muove non a casaccio ma che svolge il suo ruolo che è quello che il nostro rettore ha ricordato anche la settimana scorsa in occasione del Manifesto della Pace della Federico II secondo l'ottica di ciò che persegue ero conoscenza, sapere e libertà. Dico questo perché specie negli ultimi due anni io con una certa forma di puttura prendo la parola su questioni che in qualche modo riguardano la realtà contingente perché non sarà sfuggito e ogni volta sono costretto lo so che è un mio problema ma lo faccio sempre ormai da quasi due anni a questa parte non sarà sfuggito che in particolar modo il ruolo pubblico del filosofo ha subito o meglio grazie ad alcuni interpreti una forma di inflessione in ordine alla quale rispetto alla realtà contingente i filosofi vengono chiamati una volta di più a interloquire o a essere massimi interpreti dei processi in corso svolgendo un ruolo che nella migliore delle ipotesi è appaiato a una certa retorica appunto semplificativa e confermativa di alcuni canoni di una negazione di costruzione di sapere e dall'altro ma questo attiene più le conoscenze personali di alcuni di questi interpreti che navigano ormai in maniera indefessa da circa ventiquattro mesi senza colpo ferire passando dalla pandemia alla guerra come se fossero tutte cose omologabili a partire da un'istanza di narcisismo spinto come la chiamo io ovvero una forma di narcisismo in ordine alla quale non solo ci si ama ma ci si corrisponde pure per cui alla fine diventa una sorta di gioco autoriferito e assolutamente ipertrofico e cosa che fa a mio modo di vedere un cattivo servizio alla filosofia e al ruolo invece che la filosofia ha svolto svolge e deve svolgere rispetto all'ordine di comprensione all'interno delle dimensioni di vivere associato segnatamente a dei fenomeni complessi dall'altro fa sì che alcune questioni capitali vengano risolte addirittura con paradigmi che definire primitivi e essere sobri e gentili non più tardi di qualche giorno fa un amico e collega dell'Università di Genova ha scritto questo lungo intervento contro la complessità io ora penso una cosa che tutto ciò che non procede in direzione della complessità che non necessariamente significa artatamente complessificazione sia un cattivo servizio in direzione della costruzione del sapere noi con molta facilità e di questo mi chiamo direttamente in causa abbiamo compiamo un passo che la filosofia da un po' di secoli a questa parte consentendo anche in qualche modo l'edificazione di un metodo scientifico quello moderno che è quello attorno al quale in qualche modo ancora oggi ci muoviamo ha ammonito rispetto a questo ovvero che solo se ci si muove all'interno della complessità e da Ockham e Jung in poi sostanzialmente non confondendo il piano della descrizione dell'analisi con il piano della valutazione ovvero per dirla in maniera ancora più semplice che sembra un altro mantra retorico che transita ormai da circa 30 giorni anche nel tubo catodico in particolar modo che spiegare e comprendere non significa giustificare è evidente che noi quando approcciamo un fenomeno se siamo all'interno del perimetro che si è dato l'uomo occidentale da molti secoli a questa parte siamo all'interno di fenomeni complessi ovvero siamo approcciamo ogni volta un fenomeno che non è isolabile dal contesto ovvero è sempre in relazione con altri fenomeni in particolar modo se il fenomeno in oggetto porta il prefisso guerra o diciamo così ruota attorno al macro fenomeno guerra non è isolabile dal contesto in cui tutto questo si colloca contesto non solo storico ma anche contesto che ha a che fare con la specifica ordine di spiegazione e comprensione del fenomeno stesso evidente che per capirci se noi abbiamo intenzione di svolgere una ricerca un ordine di analisi e comprensione che ha a che fare con un fenomeno di natura biologica è evidente che tutta una serie di piattaforme di conoscenza non funzionano al fine dell'obiettivo che uno ha prefissato ovvero l'analisi di un fenomeno che rientra nel perimetro della biologia della genetica e via discorrendo non c'è dubbio che i macro fenomeni come il fenomeno guerra chiamino in ballo a loro volta dei livelli sotto livelli o altri livelli una sorta di ottica multistrato che procedono in direzioni plurime prima tra tutte quella che in qualche modo coinvolge la sfera dell'etica della morale per cui non c'è dubbio che se uno deve risolvere il macro fenomeno guerra russo ucraina Russia ucraina è condotto all'espressione immediatamente di un giudizio di ordine etica un giudizio morale che si risolve nella individuazione di un aggressore di un aggredito e quindi la condanna tutto quello che volete sembra addirittura essere diventato un tumulo rituale con la quale ogni volta qualcuno deve parlare di questa cosa per cui non c'è dubbio che tuttavia se noi vogliamo comprendere il fenomeno ho detto dobbiamo in qualche modo allocarci all'interno del perimetro in cui il fenomeno emerge il perimetro dentro il cui il fenomeno emerge è un perimetro che porta il prefisso di una specifica regione del sapere che costituisce che è costituita dall'ambito del politico l'ambito del politico diciamo così i miei studenti più anziani lo sanno perché sono tematiche che in qualche modo in uno dei corsi in particolar modo quello di filosofia morale ormai da circa un decennio trattiamo questioni che sono al margine tra la filosofia morale e la filosofia politica l'ambito del politico è addirittura un ambito che è fondativo delle altre perché è quell'ambito nel quale prendono corpo e hanno le loro ragioni di sussistenza e le loro capacità di persistenza le dimensioni di vivere associato che hanno raggiunto un grado di intensità associativo massimo e che convenzionalmente chiamiamo unità politica allora qual è il punto che per me è di approccio innanzitutto metodologico se noi abbiamo intenzione di discutere all'interno di un luogo in cui si fa ricerca conoscenza si tenta di tirare su delle piattaforme di sapere e in qualche modo come dicevo mirano in direzione anche dell'esonero e della libertà dell'individuo cioè più conosciamo più in qualche modo siamo liberi di sviluppare i nostri il nostro armamentare o la nostra attrezzi di comprensione e critica più siamo liberi è evidente che noi dobbiamo sforzarci di allocare la questione all'interno del perimetro suo un vuoto di attenzione sospendere o cancellare gli altri livelli che sono chiamati in ballo dalla questione in oggetto ma significa innanzitutto rispetto al piano conoscitivo e in qualche modo di comprensione mantenerci sul piano della mera descrizione e il più possibile tentare proprio perché ne va della comprensione del fenomeno di non cedere al piano della valutazione nella migliore delle ipotesi uno sarà in grado di svolgere di attivare il piano della valutazione solo dopo aver conosciuto nella migliore delle condizioni possibili il fenomeno in oggetto dico questo perché se è vero come io ritengo che il fenomeno in oggetto la guerra ucraina va collocata all'interno del ambito del politico noi non possiamo astrarre da un'altra direttrice questa di ordine storico analitico che in qualche modo attraversa la storia globale da circa 70-80 anni ovvero all'indomani della seconda guerra mondiale dove noi ritenevamo o meglio una certa retorica ricostruttiva che poi non è quella sulla quale si sono sviluppati anche nel corso degli ultimi decenni piattaforme di comprensione dei fenomeni storici accaduti nel corso che in qualche modo noi all'indomani della seconda guerra mondiale fossimo ci fossimo liberati di alcune istanze prima tra tutte quella della risoluzione delle dispute tra unità politiche più semplicemente tra stati del conflitto io ricordo a me stesso qualcuno l'ha dimenticato che in realtà gli ultimi 80 anni sono invece all'indomani della seconda guerra mondiale stati attraversati da un numero indefinibile di guerre il problema scusate il piccolo tono in questo caso polemico è che proprio perché alcune di queste guerre la maggior parte di queste guerre si svolgevano a migliaia di chilometri di distanza da casa nostra dal cuore dell'Europa in qualche modo ci sembravano un fenomeno riconducibile a una fiction televisiva in particolar modo all'indomani della prima guerra nel golfo dove c'è stato un primo approccio di ordine mediatico massivo rispetto alla narrazione del conflitto bellico in Kuwait e poi esteso all'Iraq sostanzialmente sembrava in qualche modo un qualcosa di narrabile tuttavia a una distanza siderale dove che il problema comincia a toccarci più da vicino il problema comincia a toccarci più da vicino se come sta avvenendo il conflitto armato è nel cuore dell'Europa la maggior parte delle persone che io vedo di fronte sono troppo giovani per ricordare cosa che invece la mia generazione e quelle precedenti ricordano molto bene che non più tardi di 25 anni fa si è in qualche modo guerra invece a un confine ancora più più vicino a quello italiano nella fattispecie che è la guerra che ha portato allo smembramento della ex Jugoslavia e che a mia memoria è durata all'incirca cinque anni e mezzo ora dico questo perché noi dobbiamo essere sotto questo profilo se abbiamo deciso di svolgere la nostra chiacchierata insomma in qualche modo il nostro confronto su un piano che attiva e si dispiega tutto in direzione di una forma di comprensione del fenomeno in oggetto dobbiamo tenere fuori la porta anche le nostre miserie personali lo dico in maniera autocritica non solo nei termini del giudizio di valore ma anche nei termini di un approccio in qualche modo falsificante l'ordine storico e i fatti storici sotto questo profilo essere il meno ipocriti possibile per quanto gli occhi dell'osservatore gli occhi delle ricercatori in qualche modo inficiano il fenomeno che viene studiato approcciato studiato e compreso noi rispetto a questo che ci tocca così da vicino dobbiamo il più possibile astrarre anche dalle nostre appunto detto in qualche modo miserie personali e sotto questo profilo spero che la cosa non venga recepita male essere il più algidi possibile sul piano della comprensione e dell'analisi e dicevo che sotto questo profilo la storia che accompagna sul piano del politico le vicende che noi abbiamo ancora la pretesa di considerare eurocentrica semmai lo sono state forse nei secoli scorsi ma sicuramente non più nel ventesimo secolo se non come scenario di guerra la storia che è cominciata all'indomani della seconda guerra mondiale atteso in direzione del completamento di un processo che era già cominciato all'inizio del novecento ovvero quello in qualche modo dell'esaurimento definitivo delle forme stato moderno e contemporaneo e il tentativo di svilupparsi e declinarsi nei termini delle dimensioni di vivere associato fondanti e fondative come lo sono le unità politiche in direzione di nuove forme di organizzazione e in qualche modo di realizzazione della propria attesa persistentiva di rango superiore delle unità politiche non c'è dubbio che lo snodo costituito dalla seconda guerra mondiale abbia dato l'abbrivio a un'accelerazione di questo processo e sempre più si è andato e si procede in direzione di una destrutturazione definitiva delle forme organizzative stato in direzione di quelle che un autore di qualche decennio fa al netto delle sue vicende personali che era Carlo Schmitt ha definito grandi spazi che cosa sono i grandi spazi i grandi spazi sono per certi versi ho detto il tentativo e la realizzazione del superamento delle forme stato moderno e contemporaneo in direzione di macro unità politica dico questo perché c'è già un antisegnano storico di grande spazio questa era un'analisi di Carlo Schmitt che sono gli Stati Uniti d'America che in qualche modo al netto di vicende particolari nelle analisi dell'autore che ho chiamato in ballo all'indomani della seconda guerra mondiale hanno teso a sviluppare la propria trama persistentiva in una direzione di dilatazione della propria una volta si sarebbe detta sfera di influenza non c'è dubbio che la potenza vincitrice il fatto atlantico è tutto quello che in qualche modo fa anche la cronaca e la narrazione di questi giorni tuttavia questo processo di delimitazione di grandi spazi in fondo un nuovo ordine mondiale che è cominciato in qualche modo un processo di nuovo ordine mondiale che è cominciato all'indomani della seconda guerra mondiale non è un gioco tutto quanto autoriferito degli Stati Uniti d'America questo anche per far cadere nel modo di vedere un ritornante tema interpretativo che ha da scontare un forte vizio ideologico tant'è che a nessuno di noi è sfuggito che quantomeno i decenni che hanno accompagnato la fine della seconda guerra mondiale fino alla fine degli anni Ottanta del Novecento hanno visto in qualche modo in questo un'ulteriore forma di semplificazione invece di un processo molto più complesso della semplificazione operata in quei decenni una sorta di mondo bipolare in cui anche la mia generazione figlia in qualche modo del tempo della guerra fredda vedeva il mondo diviso in due blocchi in realtà il processo della strutturazione ed identificazione di grandi spazi è andato avanti noi oggi possiamo prospetticamente vedere la individuazione possiamo leggere l'individuazione di almeno quattro aree di sfera di interesse di grandi spazi che qui ed ora fanno la situazione del pianeta Terra inabitata dalla nostra specie una che procede in direzione della sfera di interesse che è quella canonica degli Stati Uniti d'America un'altra che è nata dalle macerie della seconda guerra mondiale e che va in direzione dell'Unione Europea c'è un'altra di stampo euroasiatico di uno degli attori sintagmatici in gioco come dirò tra qualche minuto e un'altra che sicuramente procede in direzione extra euroasiatica in direzione asiatica e che per semplificazione da gazzetta ma anche per capirci è quella che in qualche modo leva e fa riferimento al grande spazio di stampo cinese ora che cosa è avvenuto nell'ultimo trentennio che questo processo ha subito delle accelerazioni molto potenti prima tra tutte la prima l'accennavo in precedenza l'uscita dal sogno semplificatore del mondo diviso in due blocchi che ha coinciso tra il 1989 con la caduta del muro di Berlino e sostanzialmente il 1991 con l'implosione del blocco sovietico con l'emergere di una nuova estanza in maniera ancora più chiara dalle macerie dell'Unione Sovietica di stampo euroasiatico alla quale facevo riferimento poc'anzi ora qual è il gioco e utilizzo il termine gioco in termini descrittivi non come termine ironico o semplificativo qual è il tentativo che si è messo su nel decennio che ha accompagnato dal 1991 fino al 2001 il tentativo di delimitare a partire dal proprio centramento del grande spazio che rientra sotto il cappello semplificativo di occidente un grande spazio che in qualche modo avesse un suo proprio principio autonomia ma che in qualche modo fosse un partner del grande spazio occidente a sua volta diviso in due settori quello eurocentrato che fa capo ci auguriamo almeno io da cittadino europeo mi auguro che sarà così all'Unione Europea e l'altro che fa capo agli Stati Uniti d'America in un rapporto di stretta strettissima interdipendenza c'è un altro tornante storico che noi non possiamo sottovalutare e che è costituito esattamente all'11 settembre del 2001 all'indomani dell'11 settembre del 2001 il processo di delimitazione dei grandi spazi ha subito un'ulteriore accelerazione ha portato a un ordine di ridefinizione interno molto netto le unità politiche che in qualche modo andavano a definire il macrospazio il grande spazio eurocentrico e il grande spazio statunitense in direzione del definitivo superamento delle forme Stato moderno e contemporaneo ci è voluto quasi un secolo alla fine all'indomani dell'11 settembre questa è la mia analisi ci siamo riusciti a superare quel tipo di forma Stato moderno e contemporaneo e abbiamo proceduto in direzione di una forma intermedia di accompagnamento al definitivo stabilizzarsi dei grandi spazi che è quello che in qualche modo in maniera molto più cogente abbiamo vissuto sulla nostra pelle negli ultimi due anni non c'è dubbio che nell'ultimo ventennio negli ultimi ventun anni uno dei principi attorno ai quali si è costruito il luogo del monopolio della decisione politica delle forme diciamo così di superamento dello Stato moderno e contemporaneo ha proceduto in direzione dell'assunzione dello Stato d'emergenza come paradigma di governo noi lo abbiamo vissuto in maniera più diretta sulla nostra pelle solo nell'ultimo biennio ovvero all'indomani del decreto presidenziale come cittadini italiani del decreto presidenziale del 23 febbraio del 2020 una coincidenza di date inquietante ma in realtà il luogo del monopolio della decisione politica sul terreno occidentale è già oltre un ventennio che si muove in questa direzione e il progressivo forme di riduzione dei luoghi deputati alla costruzione della decisione politica nella prassi ne sono l'interfaccia il punto di caduta cioè quando sentiamo parlare in maniera anche troppo semplificativa della riduzione dei parlamenti all'interno delle cosiddette democrazie occidentali a semplicemente luogo di ratifica di decisioni di stamp prese dal potere esecutivo o addirittura in forme stato democratico presidenziali del presidente della repubblica sostanzialmente è una semplificazione una formula semplificatoria per dire che il luogo del monopolio della decisione politica nella prassi è stato delocalizzato ed è stato delocalizzato nei termini di nuove architetture ovviamente non entro nello specifico di queste nuove architetture ma per me sono solo il punto di passaggio il transito in direzione appunto dell'attestazione e assestarsi di questi grandi spazi di movimentazione delle unità politiche dico brevemente che cos'è un grande spazio lo accennavo in precedenza è una macro unità politica che al suo interno comporta un assetto delle forme di equilibrio di relazioni privilegiate tra unità politiche fondative di questo grande spazio solitamente all'interno di un grande spazio c'è un'unità politica guida che si accolla attenzione l'onere e l'onore di una detenzione esclusiva della detenzione esclusiva dello ius belli che se ci riflettete il punto di caduta decisivo affinché un'unità politica possa garantire a se stessa un margine di persistenza e un margine di sicurezza al fine della realizzazione della propria persistenza ora dov'è il nodo che a mio modo di vedere è cruciale rispetto agli eventi che si stanno verificando in queste settimane in qualche modo lo accennavo in precedenza è l'accelerazione ulteriore che è stata data a un processo in corso da un'ottantina d'anni ovvero di attestazione e di perimetrazione netta nei termini del registro coesistentivo della coesistenza tra questi grandi spazi se noi riusciamo un minimo a entrare in sintonia con questo prefigurazione di nuovo ordine mondiale secondo delle sfere di interesse che è evidente che non sono delle semplici sfere di interesse di ordine economico ma sono fattuali e materiali perché il grande spazio è anche spazialmente determinato e materialmente e territorialmente determinato noi capiamo che c'è una cosa sulla quale le nostre generazioni in qualche modo avevano fatto finta di smettere di riflettere o realmente avevano smesso di riflettere che quando vengono a contatto due spazi delle due luna o questo contatto si risolve nella individuazione di uno spazio di neutralizzazione di questo contatto oppure il contatto non può che essere confliggenio allora dov'è e su questo davvero mi avvio a chiudere metto un punto e virgola al mio ragionamento dov'è il punto che noi non dobbiamo sottovalutare ancora prima di aprire tutti gli altri strati che hanno a che fare con un nostro giudizio complesso sulla realtà situazionale che nel cuore dell'Europa in questo momento si sta consumando io mi auguro il punto di caduta ultimo di questo contatto tra due grandi spazi da un lato quello è euroasiatico dall'altro io mi augurerei ma questo lo lascio come problema e in qualche modo anche come principio speranza perché in fondo mi auguro che tutti ci sentiamo cittadini europei che incarnano determinati motivi esistenziali non degli atteggiamenti esistenziali ma dei motivi esistenziali che poi trovano in alcune parole chiave come pace libertà come dire il loro punto di caduta concettuale che l'altro grande spazio che in qualche modo si trova coinvolto non è il grande spazio Stati Uniti d'America ma il grande spazio Unione Europea che dovrebbe essere in grado di svolgere il passaggio ultimo di completamento di questo processo di consolidamento del grande spazio che è e in qualche modo entrare in contatto con questo altro grande spazio non semplicemente nei termini che sono quelli che negli ultimi giorni vengono maggiormente spinti che poi hanno sono quelli che hanno la ricaduta diretta sulle nostre tasche ovvero nei termini di accordi economici ma anche nei termini di accordi politici e qua utilizzo l'aggettivo politico politici con la P maiuscola nei termini di stabilizzazione di propri motivi esistenziali al cospetto di alterità assolute ovvero di altri motivi esistenziali rispetto ai quali delle due l'una o coesistono o entrano in conflitto io metto un punto in virgola perché ovviamente so che la problematicità specie di queste ultime considerazioni che in qualche modo ho proposto immediatamente chiamano in ballo degli statuti interpretativi che però attenzione ed era in qualche modo l'avviso metodologico con il quale avevo inaugurato non devono impedirci di comprendere invece fino in fondo le processualità in corso io non sono convinto del tutto vedo il mio amico Gianfranco con il quale abbiamo discusso non più tardi qualche settimana fa io non sono del tutto convinto che il processo di unificazione europea in questo momento subisce un colpo mortale io la vedo questa come una grande possibilità invece di consolidamento definitivo del processo di unificazione europea che comporta comporterà necessariamente un ordine di sdoppiamento definitivo con gli Stati Uniti d'America ovvero di chiara e netta divaricazione non nei termini di un'alternativa esistenziale ma nei termini di un confine netto anche con quell'altro grande spazio ovvero che l'Europa nel cui seno in questo momento si sta svolgendo sulla pelle degli ucraini la una guerra materiale sulla vita del popolo ucraino definitivamente porti a compimento il proprio processo autoidentificativo come grande spazio solo allora noi saremo in grado di pensare in maniera alternativa in termini realizzativi e guardate che questa cosa non è che è una promessa messianica potrebbe essere risolversi in tempi molto più stretti di quello che pensiamo solo allora noi possiamo pensare a delle strategie reali di confronto con il macro spazio euroasiatico perché in questo momento non sfuggirà nessuno e questo me lo concedo vi chiedo venia è l'unico elemento valutativo che vi propongo perché non c'è dubbio che in questo momento io lo dico da cittadino europeo e lo valuto da cittadino europeo la nostra forma di interrelazione o di possibilità di coniugazione coesistentiva con il macro spazio eorasiatico non è condotta da noi e questo al netto dell'interesse diretto di ordine materiale è un problema identitario identitario fino in fondo ringrazio e ringrazio gli organizzatori della giornata grazie grazie davvero al professor Giannini che ci ha permesso veramente di aprire in bellezza questo nostro confronto e nulla di iniziare veramente a entrare nel merito di quel processo necessario di problematizzazione delle processualità in corso che alterano in modo già evidente il mondo in cui viviamo ed è proprio su questo che ho fatto la parola a Mario Cosenza postdoctoral researcher presso la scuola meridionale che appunto porta come intervento dal titolo sovranità e dipendenza quale destino? grazie così si sente? sì non sono abituato ringrazio gli organizzatori in particolare Mattia che non vedo più quindi se ne è lavato le mani poi all'improvviso ci sta? non si palizza però forse non c'è in ogni caso diciamo che alcuni termini utilizzati nel discorso dal professor Giannini saranno anche miei la prospettiva sarà leggermente differente però viaggiamo abbastanza connessi ecco io tengo ad iniziare il discorso con chiarezza subito ossia premettendo che a mio parere l'invasione russa è un abominio politico e militare gli aggressori sono con ogni evidenza Putin e l'apparato militare russo e l'Ucraina ha tutto il diritto di difendersi e il suo popolo in fuga va accolto in ogni modo perché per quanto mi riguarda l'azione russa è ingiustificabile sotto il profilo del diritto internazionale anche moralmente ma primo punto di unione di congruenza con l'intervento del professor Giannini anche io credo che siamo qui per disgiungere un po' questa questa identità tra pensiero e giustificazione come se fossero la stessa cosa perché in questa sede abbiamo il diritto di interrogare a mio parere livelli più complessi che non negano la nostra condanna bensì le danno un impianto nella convinzione che tutto ciò non fosse imprevedibile va rifiutata la tendenza al discredito riguardante l'inquadramento storico di ciò che sta avvenendo poiché rifiutare l'analisi genetica causale strutturale strategica significa muovere guerra al pensiero e generare irrazionalità non so se vado troppo veloce leggendo così la disumanizzazione del nemico è una forma del dominio ideologico e del muovere guerra perché attiva solo un sentimento di esclusione e genera interventismi scriteriati da questo punto di vista i maccartismi vari sono perfettamente coerenti con la furia bellica della semplificazione e vanno per quanto mi riguarda rifiutati in toto così come le equiparazioni tra Putin e il popolo o la cultura russa davanti abbiamo un confliggere che alcuni credevano buttato nella soffitta della storia una guerra mediatica spesso illiberale in campo occidentale sanguinari di spotismi russi ma anche logica di accerchiamento vero o presunto che ha offerto a un personaggio senza scrupoli come Putin la cornice narrativa ideale per giustificare la sua politica di potenza neozarista che considera l'Ucraina come una sua zona di influenza naturale e cuscinetto del grande spazio russo per citare Schmidt e il professor Jenny non dobbiamo aver paura di dire certe cose personaggi come Putin e chi c'è dietro ragionano secondo logiche di potenza e noi dobbiamo provare ad entrare nella mente dei personaggi che incarnano una logica storica per capirla e se è necessario sconfessarla o se no resta solo l'emergenza come governo solo considerando le varie ottiche e pesandole non dimenticando i conflitti già in corso in quelle terre e traendone poi una summa potremmo avere accesso a un'analisi radicale che contribuisca a ripensare la teoria del potere internazionale e che fondi rapporti diplomatici ragionevoli e non conduca a ulteriori disastri le tragedie almeno insegnino qualcosa e in un'aula universitaria abbiamo il diritto di porre domande ora in questo intervento si dà per scontata una razionalità dei soggetti in campo non ritengo esplicative le categorie psicologiche applicate alla politica e come base auristica ha più senso basarsi su un conflitto supposto razionale che su schegge impazzite è impossibile da richiamare all'analisi lo sforzo deve essere quello di inserire la presunta pazzia dei singoli in un fallimento di sistema più ampio ossia il ben più rilevante impazzimento sistemico sociopolitico del capitalismo contemporaneo Putin ad esempio per quanto mi riguarda non è solo un ente biografico ma il pezzo vivente di una complessa formula di poteri che possiamo chiamare oligarchie apparati di guerra logiche imperial zariste a loro volta inserite in un cerchio concentrico di interessi alleanze ritorsioni strategia meccanismi impersonali e scelte umane tale logica di potenza di singoli di classi di stati interi sta completamente sfuggendo di mano come vediamo creando un conflitto che alle forme delle tecnologie del nostro tempo ma la sostanza sempiterna del muover guerra perché ciò che è certo è che stiamo vedendo una riconfigurazione spaziale del pianeta evoluzione già in corso ma che ora ha assunto la forma di una guerra aperta ad un primo livello abbiamo quindi chiaro e trasparente uno scontro tra sovranità la sovranità è un modo di stare nello spazio politico e se non si riconoscono le sovranità in campo o meglio i soggetti portatori di una certa visione del mondo e dei mezzi per farla vivere non c'è nessuna via possibile per la pace sempre che la si voglia nel titolo del mio intervento però cito anche la dipendenza quindi inizio da qui la teoria della dipendenza in soldoni ci ricorda che il sistema mondiale si basa su relazioni globali di dominio economico e politico da parte dei paesi economicamente più potenti ai danni di quelli subalterni la storia ha gerarchizzato forme di distribuzione diseguale di potere e risorse ed ha fondato dei centri e delle periferie il sistema mondo del capitalismo storico per citare Wallstein si organizza in modo che i flussi di ricchezza e merci e valore risalgano dalle varie periferie globali verso il centro ossia gli stati più potenti esistono insomma storicamente e logisticamente degli squilibri sistemici il sistema capitalista mondiale è organizzato come una catena interdipendente da una parte ci sono gli stati più potenti e dall'altra gli stati satelliti con in mezzo dipendenze intermedie si pensi alla totale dipendenza italiana nel campo energetico che mostra come la subalternità possa inserirsi in paesi che per quanto in declino sono più vicini al centro che alla periferia le nazioni centrali sono in grado di sfruttare le nazioni periferiche grazie alla superiorità economica e militare i paesi subalterni si specializzano in certe esportazioni e i lavoratori lavoreranno per meno salario e con meno diritti rispetto a quelli dei paesi economicamente più potenti i teorici della dipendenza sostengono che tali politiche abbiano gettato i semi dei conflitti etnici in seguito all'indipendenza del dominio colonale o al crollo di stati complessi come l'URSS ovviamente ora cosa c'entra tutto ciò c'entra perché un discorso del genere riguarda anche ciò che abbiamo sotto gli occhi attenzione non si sta dicendo che la Russia sia un paese vittima per quanto nell'analisi credo debba essere citato il saccheggio che essa ha subito negli anni 90 dell'elite interna e stranire ribadisco che l'apparato russo dominante oggi non è altro che un portatore di guerra imperialista che scruta altre logiche imperialiste più sottili e attacca con feroce inusitata sulla base di un presunto diritto culturale a dominare il mondo russofono o ex sovietico cito la teoria della dipendenza però perché si vuole inserire il tutto in un quadro più ampio ossia lo scontro riguardante la transizione da un ordine considerato intangibile la cosiddetta fine della storia a una nuova transizione multipolare la russia ragiona secondo una logica di potenza da razione revancista in termini puramente amorali chi si sente alle strette o teme di star perdendo quelle che considera delle presunte zone cuscinetto naturali da ben virgolettare naturali attacca ancor più se stati che considera ostili ancor più se stati che considera ostili dipendono dai suoi flussi energetici dei suoi flussi energetici abbiamo visto in questi giorni cosa voglia dire dipendere e non essere sovrani nel campo energetico si ha tutto il diritto di pensare che l'accerchiamento e i conflitti già in corso che i russi richiamano come motivo fondante della guerra siano puri pretesti per un'invasione tutta ideologica ma la teoria della dipendenza ci offre comunque un elemento in più perché ci fa comprendere come i tentativi bellici ancor più quelli delle nazioni guidate da un vortice di nazionalismo sono sempre tentativi di sfilacciare un certo ordine centro-periferia o un certo equilibrio tra centri ossia diciamo un certo rapporto di forza mondiale per instaurarne un altro se pensiamo alla geometria spaziale comprendiamo meglio come l'Ucraina sia una terra inserita sul confine di un centro e vicino ad altri centri e non possiamo non notare come tutti gli stati del mondo in seguito a tale conflitto si stiano riposizionando lo abbiamo visto anche dentro quel che resta dell'ONU lo stesso destino dell'Europa si gioca adesso stiamo vedendo credo sotto i nostri occhi sgretolarsi la pie illusione che la globalizzazione sarebbe stata guidata da un attore unico che avrebbe seminato pace e prosperità e diffuso le forme occidentali di vita tramite soft power e attrazione ideologica ma la globalizzazione non ha invece fatto altro a mio parere che accentuare lo scontro internazionale tra capitali creando continuamente vincitori e vinti con i primi che liquidano fagocitano i secondi portando con loro anche le periferie o divenendo loro stessi periferie o ribellandosi per non esserlo i grandi diventano più grandi e siano stati o soggetti privati si chiama centralizzazione del capitale e non è niente di esattamente nuovo se si ha paura di Marx basta vedere anche gli studi di Piketty alcuni interpreti parlano ora di un possibile nuova fase di centralizzazione geopolitica dei capitali ossia il fatto che come conseguenza dei nuovi scenari di conflitto il sistema mondo tenderà alla formazione di aree geopolitiche connesse all'interno ma meno comunicanti con l'esterno insomma un ritorno all'evidenza dei confini fisici economici e ideologici e che ne dicano i fautori del mercato livellante un campo politico liscio non esiste né in politica interna né estera ovviamente in chiave marxista il fatto che esistano delle strutture geopolitiche non toglie che sullo sfondo si stagli sempre la valorizzazione del capitale di certi stati contro altri con annesse lotte in trestine tra classi geopolitica e analisi strutturale devono essere congiunte ideologie e strutture vanno pensate insieme se no o è risico o è economicismo in quest'ottica oltre all'esistenza stessa dell'Ucraina e al terribile dolore della sua popolazione la posta in gioco del conflitto è il legame e la dipendenza tra Europa e Stati Uniti la sovrapponibilità tra Unione Europea e Nato e il ruolo dei paesi BRICS cosiddetti cosa ne sarà delle convergenze di sviluppo economico tecnologico e logistico tra grandi stati e spazi basti pensare alle interconnessioni della via della seta o alla questione gasdotti queste cose non svaniscono in un giorno e nella riconfigurazione delle stesse ci si gioca tutto il futuro in questa iperconnessione tra queste questioni apicali torniamo al problema della sovranità che ricordo nonostante la brutta fama che ha in Italia in seguito all'impostura di questo oggetto non è una brutta parola e se no non dominerebbe il primo articolo della nostra spregiata costituzione ed è un modo di porsi nella storia e nel campo politico è il modo di dire io di un soggetto politico prendiamo ad esempio l'Italia da qui da questa parte del mio intervento diciamo che ho più domande che risposte sono decenni che il nostro paese tra minacce del debito e cessioni di asset strategici ha scaricato sulle classi popolari la sua recessione e ha risolto il conflitto sociale delocalizzandolo nell'Olimpo di Bruxelles e Francoforte un paese molto poco sovrano è profondamente diseguale proprio partendo dall'Italia dovremmo chiederci che cosa può essere della sovranità oggi devastata la sovranità democratica il compito della politica finisce? cosa ne è della pace se non si riconoscono neanche i soggetti in gioco e cosa della redistribuzione senza sovranità chiara? Dobbiamo rassegnarci a un terribile dualismo tra Stato neoliberale ossia lo Stato garante del presunto razionalismo del mercato con tutti i corollari antropologici che ciò comporta e il suo farsi vettore di guerre umanitarie dualismo tra questo tipo di Stato e lo Stato nella versione autocratica russa liberticide guerra fondaia che ad un dato momento muove guerra ciò che resta degli stati occidentali è costituito oggi da una saldatura tra potere politico tradizionale all'interno del quale vediamo un trionfo dell'esecutivo del settore militare militare della tecnica e del controllo rispetto al legislativo potere economico finanziarizzato e potere mediatico narrativo tra cui anche ovviamente i social questo Stato dal nomos disorientato può ancora essere riscattato e piegato verso la democrazia o no? Insomma la sovranità statale una forma ancora adeguata a rafforzarla può servire a dare slancio a richieste di emancipazione a fronteggiare sfide epocali come la questione climatica oppure il destino della sovranità e la guerra per quanto mi riguarda la storia della sovranità incarnatasi nella forma Stato è una storia dialettica è stata sia lato ferino sia redistribuzione la domanda è saremo mai in condizione di portare avanti la funzione basilare della sovranità ossia la protezione coniugandola con una funzione pacifica o saremo sovrastati dal fallimento del sistema mondo e dalla totale fragilità sistemica del mercato autoregolato il cui collasso come diceva Polani genera i fascismi insomma lo Stato esiste ancora in che forma dobbiamo chiederci se è possibile la sfida di riassociare economia e politica un prevalere della dimensione pubblica e degli interessi comuni dovremmo chiederci ma la politica o meglio il politico ancora ha la forza di fondare il mondo di sovvertire il dominio dell'economico e del bellico spoliticizzando la società e politicizzando la sovranità popolare lo Stato democratico ha un futuro è qui che il discorso Italia si salda al discorso Europa cosa ne è della sovranità degli stati europei cosa vogliono diventare e cosa sono la domanda essenziale della politica europea è esiste un demos europeo che possa costituire uno spazio pubblico partecipato un popolo capace di potere costituente lo spazio europeo da decenni è uno spazio che ha realmente in comune solo la moneta ossia uno degli aspetti della sovranità ma non l'unico ma se si ha a cuore solo la lotta all'inflazione non ci si cura dell'occupazione e della partecipazione si possono affrontare sfide che richiedono un'enorme mobilitazione popolare l'intermedio in politica è fonte di caos sempre e l'Unione Europea è il regno della forma intermedia né sovrana né non sovrana se si vuole più Europa allora si vuole la sovranità europea perché dalla sovranità non si scappa in quest'ottica l'Unione Europea avrebbe tutto l'interesse a farsi mediatrice di pace e ragione ma non ne ha forse la volontà né la forza fondandosi essenzialmente sull'idolatria per l'austurità e su rivalità interne franco tedesche e nord sud che subiranno certo un aggravarsi dopo l'annuncio del pesante riarmo tedesco come si fa anche solo a parlare di forze armate europee senza sovranità senza un riassetto complessivo ci si prende in giro concludo perché ho messo insieme sovranità e dipendenza e futuro italiano europeo in primis il terribile scontro in atto e scontro tra strutture sovrane volenterose di prendersi spazi o di sopravvivere la sovranità non è solo guerra ma può esserlo e solo la mobilitazione può rendere la democrazia e non potere di morte agonismo e non amicizia assoluta verso un hostis se non pensiamo a cosa voglia dire oggi controllo politico sull'economico e sul bellico la situazione non potrà che peggiorare in più questa lotta tra sovranità più o meno grandi è inserita e non rimescolarsi dei centri del sistema da USA poliziotto globale si tenderà sempre più a una configurazione multipolare nuovi attori si sono sviluppati altri si svilupperanno e la dipendenza entra qui perché gli scontri non possono che avvenire sulle faglie della lotta tra centro e periferia e tra centri più o meno grandi insomma non possiamo fare finta che non esistano gerarchie limitazioni di sovranità date dai fatti non dal diritto e poi il nostro futuro in quanto italiani ed europei dopo vent'anni persi dietro alle formalizzazioni finanziarie e trattati asimmetrici impoverendo l'economia reale generando rifiuto cosa ne è dell'Unione Europea oltre che ovviamente come cultura l'Europa esiste davvero o il futuro è la sconnessione tra entità nazionali che mai si fideranno l'una dell'altra e infine voglio ricordare che queste logiche trasversali hanno impatti diversi sulle diverse classi bisogna conoscere queste strategie imperiali geopolitiche sovrane economiche ma ben consapevoli che il costo viene scaricato sempre in basso verso chi non ha voce lavoratori rifugiati immigrati potremmo dire verso gli ultimi che però diventano sempre più la sfida oggi è ripensare a nuove regole globali che smascherino l'imperialismo e il colonialismo di ritorno tentare di proporre a qualsiasi livello sovrano la contesa democratica ben consapevoli che in questa fase le nuove strutturazioni dati rapporti di forza non saranno certo di stampo socialista si tratta però almeno di provare a gestire la caduta di un'epoca e la riconfigurazione che ne seguirà grazie 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 davvero perché ci aiuta tanto a rompere quella polarizzazione tra risico e economicismo come detto in modo molto molto efficace e quindi se è possibile in qualche modo riaprire lo sguardo a prospettive alternative al comune futuro europeo che in qualche modo ci riguarda tutti inevitabilmente ma chiaro che a farne le spese come oggi vediamo al confine dopo avremo proprio un'esperienza diretta a contribuire a questa discussione ecco a farne le spese sono sempre gli ultimi e questo aspetto credo non lo dobbiamo mai dimenticare quando andiamo ad affrontare questo tipo di questioni e proprio su questo passo la parola a Pietro Sebastianelli dottore di ricerca in filosofia delle scienze sociali e comunicazione simbolica che si occupa di storia delle dottrine politiche e di filosofia politica il suo intervento si intitola l'Europa e la guerra la prospettiva europea di fronte al ritorno delle ragioni degli stati bene grazie innanzitutto per questo invito e anche per i due interventi che mi hanno preceduto e che sono stati ricchissimi di sollecitazioni per cui diciamo cercherò anche un po' di inserirmi nella traccia in modo da diciamo nei disegni già tracciati in modo da favorire anche un po' la discussione e il dibattito di questa sera io dico subito che diciamo cerco di inquadrare questa aggiungendo il carico di problemi cerco di inquadrare questa situazione dal punto di vista della storia europea nella convinzione appunto che diciamo la guerra riguardi appunto l'Europa e cercherò però di argomentare che diciamo questa guerra riguardi l'Europa in un modo forse diverso da quello che in questo momento stanno interpretando diciamo gli attuali diciamo gli attuali attori politici e dall'altro lato l'idea diciamo che in qualche modo sia opportuno necessario no? in qualche modo configurare la situazione attuale nei termini di un'aggressione che richiede necessariamente la capacità di distinguere tra chi aggredisce e chi viene aggredito no? perché questo è parte un elemento diciamo che insomma che ci spinge a pensare ecco diciamo nella complessità e quindi anche nel tentativo in qualche modo di orientare una nostra presa di posizione il nostro schierarci no? a partire dal dal fatto di diciamo sviscerare le linee di frattura profondissime dal punto di vista storico che in questo contesto in questo contesto specifico vengono alla luce dico subito che non sono un esperto di storia russa tantomeno di storia ucraina non sono un esperto di relazioni internazionali di geopolitica guardo diciamo le cose dal punto di vista della storia del pensiero politico europeo e quindi in una prospettiva diciamo che chiarisco subito diciamo in modo anche qui da riprendere le sollecitazioni professor Giannini diciamo rispetto all'anelito in qualche modo europeista no? che spero anche io in qualche modo ci guidi in queste settimane in questi mesi che saranno diciamo drammatici e problematici e ovviamente poi i tempi di guerra creano le condizioni per cui bisogna in qualche modo comprendere e schierarsi cioè significa in qualche modo cercare di definire anche una linea sulla quale sia possibile incidere su qualcosa che ci riguarda no? anche se schierarsi non vuol dire necessariamente arruolarsi perché arruolarsi vuol dire in qualche modo abdicare a quella facoltà di comprensione che diciamo a cui prima venivamo giustamente sollecitati e da questo punto di vista è un primo elemento insomma storico così perché la mia traccia cercherà in qualche modo di evidenziare le linee di frattura storiche che in qualche modo attraversano questo conflitto e che possono aiutarci appunto nel tentativo di districarci il primo elemento in cui viene a pensare che quando dopo alla fine della prima guerra mondiale il trattato di Versailles fu aspramente contestato da uno che non poteva essere sospettato di simpatie con la Germania che era Keynes Keynes economista britannico 1919 quando diciamo con il trattato di Versailles che riconosceva in qualche modo imponeva la Germania è curioso che poi le linee di frattura diciamo e la guerra in Europa avvengano sempre dentro quel tipo di configurazione geografica poi ci torneremo ma criticò aspramente quel trattato senza che per questo qualcuno lo tacciasse di connivenza con il nemico quindi bisogna in qualche modo mantenere una lucidità di analisi nonostante il clima ci imponga diciamo la facoltà insomma di abbrigare a questa facoltà critica e questo per dire che in una situazione di guerra bisogna necessariamente se si prospetta se si vuole la pace in qualche modo se si vuole la fine dell'ostilità bisogna riconoscere le ragioni del nemico bisogna riconoscere in qualche modo quello che non sta accadendo adesso cioè quello che non sta accadendo è che invece la linea di frattura della guerra si sovrappone ad una linea di frattura di tipo morale in cui diciamo l'elemento del conflitto assume la connotazione di una contrapposizione tra il bene e il male cosa pericolosissima perché l'anticamera della guerra totale è questa l'anticamera della guerra totale quando diciamo il nemico veniva giustamente evocato un po' il convitato di pietra Carl Schmitt stasera ma veniva giustamente evocato Carl Schmitt perché quando il nemico si trasforma diciamo in un nemico etico assoluto è già l'inizio di una guerra totale c'è poco da fare e perché ritorna ritorna questo elemento è la guerra giusta che si accompagna sempre alla moralizzazione diciamo alla eticizzazione del conflitto la guerra giusta che è una categoria che in qualche modo l'Europa aveva cercato di buttarsi alle spalle con il trattato di Vesfalia 1648 quello che dà vita alle sovranità nazionali diciamo alle sovranità statuali quelle che noi conosciamo e che aveva in qualche modo cercato di dare una forma giuridica alla guerra cioè di riconoscere il fatto della guerra ma di imbrigliare questa guerra all'interno comunque di un codice per così dire di una norma tra cui anche il riconoscimento delle ragioni del nemico quindi la guerra si svolge tra figure istituzionali che si riconoscono quindi riconoscono diciamo il proprio essere avversari e in questo riconoscersi per così dire la guerra trova una canalizzazione per così dire in cui è più facile uscire dal conflitto questa dimensione noi l'abbiamo cioè non è ovviamente cominciata adesso il ritorno diciamo di questa categoria alla guerra giusta abbiamo conosciuto negli anni passati diciamo la categoria della guerra umanitaria la guerra umanitaria presuppone che chi la fa la fa in nome di un universale che comprende tutti quindi implicitamente non riconosce l'alterità del nemico e ha una quindi una vocazione diciamo distruttiva ha in sé un'energia distruttiva potentissima e anche se si è presentata poi nel post 89 si è presentata nella forma più che della guerra dell'operazione di polizia internazionale e questo è un po' lo scenario di guerra a cui noi siamo stati abituati e che invece questo questo evento della guerra che la Russia ha dichiarato all'Ucraina pone un po' in discussione perché qui si tratta invece del ritorno per così dire di una configurazione della guerra che non solo invade il suolo europeo ma come dire ad una prospettiva di invasione no? cioè di invasione di uno stato sovrano nei confronti di un altro stato lì invece noi eravamo abituati ad una guerra asimmetrica in cui si confrontavano parlo delle guerre che ci sono state nel post 89 generalmente sono state guerre tra stati ed entità diciamo o che stavano lì per diventare configurazioni statuali o che invece configurazioni statuali non lo erano come diciamo nelle guerre al terrorismo quindi provare a guardare però diciamo questa situazione al punto di vista della storia europea comporta diciamo questo lo dico in avvertenza la necessità di smarcarsi dalle concezioni della storia un po' come dire caricaturali e semplicistiche cioè nel senso in cui gli attori in campo sarebbero esclusivamente i grandi apparati statali abbiamo sentito questa è una guerra provocata dal Nato piuttosto che da Putin come se appunto la storia fosse un po' diciamo il teatro delle marionette ci sono questi attori che muovono i fili delle vicende storiche attraverso una decisione che parte appunto da una volontà e si applica come diciamo avviene nella vita di tutti i giorni in realtà le cose sono molto più complesse perché dentro questo tipo di assetti diciamo strategici rientrano c'è almeno un terzo attore che sono le popolazioni le moltitudini che sono a loro volta attraversate da linee di frattura che non sono propriamente lineari questo ci aiuta per esempio nel caso di questo conflitto ci aiuta a guardare le cose con un elemento di diciamo di problematizzazione maggiore perché è vero che la guerra è il tentativo che di compattare un fronte interno noi sappiamo che diciamo il primo elemento è diciamo l'unità politica politica militare che serve a sostenere uno sforzo diciamo ma non dobbiamo dimenticare che alle spalle entrambe questi questi stati sono in realtà attraversati a linea di frattura molto molto consistente anche queste di una profondità storica notevole se pensiamo caso diciamo alla Russia noi vediamo che il tentativo di Putin è sicuramente quello di compattare un fronte diciamo facendo anche appello ad una tradizione storica che da da Caterina passa attraverso non Lenin ma Stalin e arriva a lui perché è quello il tipo di retorica che è stato utilizzato però sappiamo anche che la società russa in questo momento è attraversata da linee di conflittualità altissime che sono un attore all'interno di questo contesto sono un attore importantissimo gli arresti le manifestazioni diciamo ci sono le leggi liberticide però c'è anche un fermento perché la società russa negli ultimi anni è appunto una società divisa tra un'oligarchia petrol finanziaria da un lato e un ceto medio che attenzione ha beneficiato in questi diciamo in questi decenni dell'accesso a forme di vita e a strutture di consumi che sono molto simili alle nostre e che non è facile alle quali non è facile rinunciare quindi insomma anzitutto introduciamo questo elemento di problematizzazione il fronte interno la Russia non è assolutamente un fronte pacificato quindi noi su questo aprire le ragioni del nemico significa anche aprire il riconoscimento della complessità che attraversa la società russa in questo momento e quindi in qualche modo cercare di rinunciare a tutta questa russofobia che si è scatenata e che è davvero diciamo angosciante dall'altro lato questo è un altro elemento che è passato in sordina nell'informazione diciamo di queste ultime settimane anche l'Ucraina è un paese attraversato da linee di conflitto anche queste storicamente molto profonde è un paese che è stato ed è sempre stato dal post Unione Sovietica è sempre stato sull'orro della guerra civile cioè da linea di visione interna che molto spesso negli anni recenti sono arrivate a diciamo a configurarsi in termini di una guerra civile quindi una frattura interna profondissima cerco di dare una lettura di questo aspetto quindi la prima la prima questione è che la guerra non è un evento imprevisto non è il miracolo divino che interviene e sconvolge l'ordine delle cose era qualcosa di prevedibile all'interno di quello scenario primo perché le faglie di frattura storica diciamo ci insegnano che da lì vengono diciamo quelle che studiavamo come le cause della prima guerra mondiale vengono da quel versante è lì sulla seconda guerra mondiale cosa un po' più complessa perché quella è stata preparata in qualche modo la Germania ma sempre lì andiamo a parare diciamo sempre lì andiamo quindi si tratta di linee di frattura che attraverso la società europea e che in qualche modo oggi si ripresentano in forma diversa e che si tratta in qualche modo di cominciare ad affrontare e da un lato quindi potremmo dire la vocazione storicamente imperiale della Russia non riconoscere questo aspetto ci mette diciamo fuori strada e lo hanno pagato diciamo a caro prezzo personaggi del calibro di Napoleone e di Hitler hanno pagato a caro prezzo non aver riconosciuto questa vocazione imperiale diciamo della Russia quindi questo è il primo elemento dall'altro lato lo squilibrio diciamo politico spaziale io mi riallaccio diciamo a questa a quest'idea lo squilibrio politico spaziale tra questa dimensione imperiale diciamo quindi la conformazione spaziale della Russia che ha questa vocazione antichissima diciamo imperiale e dall'altro lato però una configurazione politica europea che è invece di natura diversa o almeno diciamo così lo spirito originario quello di Ventotene era l'idea della costruzione di un ordine politico spaziale che in qualche modo superasse la dimensione della sovranità dello Stato-Nazione no? L'Europa è stato il campo di sperimentazione per cominciare a costruire una forma politica post-statuale quindi quindi da un lato questa vocazione imperiale dall'altro però diciamo un processo di costituzione europea che si è negli ultimi anni qualche modo arenato intorno al ritorno delle ragioni degli stati no? Diciamo il ritorno anche su questo dico qualche qualche cosina cioè il ritorno di questa dimensione degli egoismi nazionali che abbiamo conosciuto con quello che diciamo i politologi chiamano il momento populista no? dell'Unione Europea cioè vale a dire il ritorno di una concezione no? della dell'organizzazione politica che riassetta la dimensione del problema politico dall'Europa nuovamente all'interno degli stati nazioni e questa situazione diciamo una delle faglie di questa situazione è esattamente il rinculo che ha sull'Europa una diciamo una 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 linea di conflittualità di questo tipo il terzo elemento è quello del nazionalismo nell'est europeo anche su cui anche qui mi soffermo diciamo qualche minuto perché noi abbiamo assistito negli anni recenti ad un allargamento a est no? dell'Unione Europea che è avvenuto nella convinzione che questo processo di integrazione favorisse quasi automaticamente una democratizzazione di paesi che venivano da esperienze di subalternità e di dipendenza da una diciamo da una da una storia che è quella della storia dell'Unione Sovietica no? quindi l'integrazione europea come tentativo di favorire i processi di democratizzazione di tutti questi paesi oggi l'Ucraina si candida ad entrare in un'europea però è avvenuto esattamente l'opposto cioè è avvenuto che anziché diciamo l'Europa essere il punto di riferimento politico-istituzionale per un processo di democratizzazione all'interno di questo paese è avvenuto invece l'inverso negli anni scorsi cioè sono i paesi europei che hanno cominciato a strezzare l'occhio a forme di democrazia che diciamo virano pericolosamente diciamo dal punto di vista dell'autocrazia abbiamo visto formazioni politiche anche diciamo di consistente peso elettorale in Italia ma anche in Francia in Germania guardare con occhio attento a quello che accadeva a Est no? e quindi ad una trasformazione in senso per così dire non propriamente liberale della democrazia che si collega al democrazionismo a cui prima faceva riferimento il professor Giannini e c'è un testo molto molto interessante di Svambibò Miseria dei piccoli stati e l'Europa orientale che diceva nel 1946 diceva esattamente queste cose Bibo ha vissuto l'esperienza della rivoluzione ungherese quindi ha visto diciamo in qualche modo il peso di questa situazione dei nazionalismi e l'est Europa schiacciati tra un anelito alla libertà diciamo a occidente è una è la cappa soffocante dell'Unione Sovietica dall'altro lato cioè per dire in sostanza che cosa che questo processo di integrazione negli ultimi anni che ha guardato ad est come a un modo per diciamo allargare in modo per così dire modo da integrare diciamo la storia di questi paesi è avvenuto un po' in un'ottica eurocentrica possiamo dire no? cioè nel senso nella convinzione un po' quello che quello che diciamo in un testo diciamo molto importante questo storico indiano Chakar Bharti diceva il provincializzare l'Europa cioè a dire la storia dell'Europa è un po' l'istituzionalizzazione dello sguardo europeo sul mondo quindi noi abbiamo cercato di integrare questi paesi all'interno europea nella convinzione che la temporalità della storia fosse unica e quindi che la temporalità della storia procede come un universale che ingloba tutto il resto ma in realtà non è così nella storia ci sono temporalità diverse quindi riconoscerle è il primo passo per poter in qualche modo istituzionalizzare percorsi di democrazia per dire che cosa per semplificare al massimo potremmo dire che paesi dell'est Europa hanno vissuto negli ultimi anni perdonate il parallelismo storico ma per capire la diversa temporalità che stiamo vivendo il corrispettivo del nostro risorgimento cioè sono paesi che si sono liberati da una potenza imperiale pensate a Lombardo Veneto con Gliasburgo e che quindi vivono una fase nella quale la strutturazione politica avviene intorno al patriottismo al nazionalismo e quindi al ritorno fortissimo del problema della sovranità popolare perché sono stati che a differenza degli stati lunga tradizione dell'Unione Europea non hanno risolto il problema dello Stato Nazione lo stanno risolvendo adesso non è detto che ci riescano lo stanno risolvendo adesso sono alle prese con il problema di configurare spazialmente la nazione lungo linee di frattura secolari appunto che oggi riemergono con grandissima pericolosità perché dico questa cosa perché qui si vede già che c'è un elemento problematico di fronte al quale l'Europa si trova cioè da un lato la prospettiva europea del superamento della configurazione degli stati e quindi il tentativo di costruire un demos europeo o una configurazione post-statuale europea e l'interiorizzazione di una serie di conflitti che invece guardano ad un'altra temporalità storica ovviamente non sto dicendo che questi paesi dovrebbero riuscire vorrei essere frainteso su questo punto sto dicendo che il problema politico di fronte al quale si trovano le classi dirigenti attuali è questo e non mi pare che sia in qualche modo all'ordine del giorno questo tipo di problematica cioè sarei fortemente in qualche modo vedo un elemento di preoccupazione non tanto nel fatto che diciamo va da sé che in questo momento diciamo chi è sotto le bombe va diciamo aiutato in tutti i modi possibili quindi bisogna cercare di offrire accoglienza riparo diciamo cercare di in qualche modo intervenire anche con forme di diplomazia diciamo così dal basso penso alle varie forme di diciamo di associazionismo che si sono mosse però dall'altro lato vedo un elemento di pericolo in questa tentativo in qualche modo di ergere quindi la vicenda ucraina un po' a simbolo della diciamo delle difficoltà di fronte alle quali si trova l'Europa adesso e quindi Zelensky che diventa un po' lo spauracchio dei problemi che l'Europa ha senza poterli in qualche modo risolvere ma anzi diciamo quindi caricandoli di ulteriori elementi di tensione vado velocemente a concludere su un aspetto che diciamo qui tengo molto spesso cioè si è fatto riferimento in queste settimane uno degli argomenti è il parallelo per cercare anche di sostenere diciamo così dal punto di vista dell'informazione della propaganda diciamo chiamiamola come vogliamo ma l'invio di armi all'Ucraina e si è fatto riferimento al paragone con la resistenza italiana come uno di quei diciamo luoghi comuni facili che servono anche un po' ad arruolare torniamo al discorso di prima io ci terrei ad evidenziare alcune linee diciamo di problematicità perché è in qualche modo qualcosa che chiama in causa la nostra storia Zelensky si è guardato bene dal fargli riferimento il suo intervento secondo me a ragion veduta il suo intervento al Parlamento italiano però viene ripreso a tambur battente e lo leggiamo quasi un giorno sì e l'altro pure sui giornali quindi secondo me su questo punto è bene fare chiarezza c'è una differenza sostanziale la resistenza italiana si inseriva in un contesto lo ha notato ovviamente non sono il primo a farlo diciamo non mi arrogo questa uno come Revelli la differenza più importante sta nel fatto che la resistenza italiana si inseriva in un conflitto che era già deflagrato ed era già di proporzioni mondiali quindi l'elemento diciamo del sostegno diciamo anche in armi che potò arrivare dagli Stati Uniti ma anche su questo va detto qualcosina si inseriva già in un contesto in cui le cose erano potremmo dire sfuggite di mano per usare un eufemismo invece adesso c'è il rischio c'è il rischio che ogni azione che andiamo a compiere sul piano diciamo dei rapporti diplomatici possa in qualche modo far varcare quella soglia pericolosissima che separa diciamo un conflitto localizzato da un conflitto di proporzioni planetarie che probabilmente la storia dell'umanità non ha ancora mai conosciuto perché noi non sappiamo che cosa vuol dire diciamo vivere all'interno di un conflitto in cui è in gioco c'è il nucleare come minaccia reale non lo sappiamo cioè una dimensione della storia è una porta che onestamente io non vorrei vedere cosa c'è dietro e poi l'altro aspetto diciamo più storiografico diciamo come dire di curiosità è che in realtà la gran parte delle armi della resistenza diciamo i partigiani le ribavano al nemico diciamo il contributo diciamo degli aiuti esterni diciamo storicamente acclarato è stato realmente minimo se uno vuole fare un paragone deve andare alla guerra spagnola 36 prima della seconda guerra mondiale quando i resistenti a Franco hanno chiesto le armi alla Francia il socialista Blom e alla Germania e hanno negate anche gli Stati Uniti hanno negate con la preoccupazione che quello fosse l'anticamera di un conflitto mondiale la storia è diciamo in qualche modo assunta l'onere di purtroppo tragicamente smentire quelle ipotesi ultimissima cosa e poi forse ho già rubato anche troppo tempo due questioni importantissime la prima è che intorno a questa questione della regione degli stati la guerra svela un altro aspetto fondamentale con il quale bisognerà fare i conti e cioè l'interconnessione globale delle economie che oggi in qualche modo sono talmente intrecciate da rendere effettivamente difficile articolare un discorso di sovranità in senso classico lo vediamo per quanto è complicato imporre delle sanzioni economiche efficaci alla Russia complicatissimo non è facile non è facile perché perché le connessioni economico finanziarie sono talmente creano delle interdipendenze talmente radicate diciamo colpire la Russia equivale al giorno dopo ad avere una diciamo un contraccolpo interno probabilmente ben più grave della sanzione che hai e l'altro aspetto sul quale mi diciamo solleciterei qualche preoccupazione è che questo evocato chinesismo di guerra cioè questo tentativo in cui questo sì preoccupante di gettare benzina sul fuoco di questo conflitto con la speranza che un chinesismo di guerra rimetta in moto una situazione diciamo critica dal punto di vista economico mi pare che metta una pietra tombale su uno dei problemi più diciamo impellente alla nostra attualità che è quello della conversione ecologica cioè quale secondo me questa dimensione del conflitto diciamo torna ad interrogarci con grandissima con grandissima attenzione io vi ringrazio spero di non aver rubato troppo tempo ok grazie davvero grazie davvero perché appunto ci riconsegni i livelli di complessità che stiamo provando ad affrontare insieme e toccare insieme ma sia fondamentale che oggi appunto queste questioni le andiamo a toccare e andiamo a vedere effettivamente che le taglie i fronti di conflitto e anche le prospettive possibili che ci interrogano sono molto più numerose di quelle che appunto abbiamo nella nostra esperienza quotidiana potuto anche solo intuire finora ed è proprio su questo che cedo la parola a professore Antonio Pescapè di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni nonché direttore scientifico di Digital Academy per appunto andare a analizzare guardare più da vicino un altro campo del conflitto che è quello cyber quello che sta interessando lo spazio dei dati lo spazio virtuale e infatti appunto l'intervento si intitola proprio guerre e cyberguerre prego buonasera mi sentite innanzitutto si sente la mia voce? la sentiamo in tutta l'aula sì ah grazie grazie per il feedback allora innanzitutto ovviamente saluti e grazie e mi scuso saluto e mi scuso anche perché in realtà sarei dovuto essere lì è solo che un po' di febbre questo fine settimana quindi poi un successivo io sono una persona molto positiva caratterialmente diciamo un tampone fatto l'altro ieri mi ha ricordato che sono più positivo del solito e quindi questo diciamo mi tiene oggi lontano da voi fisicamente ma molto vicino a voi ripeto resto molto positivo spero di però di diventare presto un po' meno positivo per tornare a fare insomma quello che stavo facendo fino a giovedì scorso peraltro in un contesto simile quindi io vi ringrazio vi ringrazio tanto per l'invito vi ringrazio tanto anche perché chi ci ha introdotto ha usato una parola che io trovo molto molto centrata ma soprattutto perché la trovo per me lasciatemi essere molto sincero cioè ci hai detto necessità cioè la necessità di e io adesso quindi proverò poi ad essere un po' più tecnico parlando delle cose di cui mi occupo quindi faccio semplicemente un brevissimo accenno quindi uscendo un po' fuori traccia rispetto a quelle che sono le mie competenze parlando proprio di questa necessità e il fatto che di questa necessità diciamo e su questa necessità ci facciano riflettere rappresentanze studentesche studenti io credo che questo sia un elemento di ricchezza enorme io credo che queste iniziative siano fondamentali il fatto che ripeto arrivino da voi ringrazio anche Mattia per la delicatezza con la quale diciamo soprattutto quando ha saputo della di questo mio sprizzo di positività mi ha mi ha contattato bene il fatto che arrivino da voi è molto importante io ho sentito cose che non condivido assolutamente negli ultimi giorni qualcuno addirittura commenta sull'utilità di queste cose addirittura io ho sentito ho sentito anche dopo gli eventi che cui la nostra comunità ha partecipato in maniera molto molto insomma molto attiva molto anche anche con una con un senso forte proprio di appartenenza qualcuno si chiede sì ma queste cose a che servono il fatto che siate voi studenti mi diceva ricordarci che queste cose servono e servono tantissimo non fosse altro per la qualità degli interventi che mi hanno preceduto per la capacità di fare finalmente diciamo un approfondimento anche da punti di vista differenti ma facendoli insomma in maniera assolutamente assennata centrata ci servono tantissimo voi guardate io quindi perciò adesso volevo fare un riferimento personale poi passando sulla parte tecnica non mi ero preparato diciamo questa parte qui nemmeno l'altra però diciamo questa sicuramente è quello che ho sentito ascoltando in realtà io credo che non solo servano tantissimo questi momenti io quindi vi ringrazio per la quarta volta credo che ho detto già quattro volte grazie ma vi ringrazio anche per la quinta perché credo che servono anche molto a noi singolarmente cioè questi sono i momenti che ci servono singolarmente per riposizionarci proprio all'interno di questo campo di discussione che prima ci ha visti singoli all'interno di un momento molto complesso che è stato quello della pandemia adesso ci vede singoli confrontarci con quest'altro momento altrettanto complesso lasciatemi dire della guerra quindi credo che ci serva molto ci serva molto proprio per capire anche noi e ritrovare anche un po' noi stessi per cercare di comprendere appieno in realtà quello che poi sono il nostro sentire per cercare di capire poi questo nostro sentire come può diventare sentire comune detto questo e io quindi vi ringrazio perché chi mi ha preceduto mi ha dato anche questa cioè mi ha aiutato anche in tal senso e quindi credo che questo sia molto importante e credo che sia importante per tutte le persone che ho visto grazie alle cose che mi ha fatto vedere Gianluca popolano diciamo in maniera anche significativa l'aula questo pomeriggio quindi credo che sia realmente importante e poi vi ringrazio perché io diciamo oltre alle cose che hai detto te faccio anche il delegato prorettore all'innovazione alla terza missione in Ateneo da un anno e mezzo normalmente mi si lascia solo questa parte qua quella dei saluti e io mi metto da parte e poi ascolto invece questo fatto di poter dire anche qualcosa su dei temi che io affronto ormai da più di vent'anni mi fa anche un po' ricordare perché io poi ci stanno tutti e due i pezzi stasera penso che questo sia il lavoro più bello del mondo da una parte ci siete voi che siete di studente dall'altra parte c'è la ricerca che è quella appunto che faccio più di venticinque anni quindi mi dà ancora più senso allora cyberguerra io adesso vorrei fare un discorso un po' ampio nel senso che non mi sono preparato nulla diciamo visto che i miei colleghi hanno davanti il foglio è una roba io non ce l'ho il foglio ho una moleschina io sono un ingegnere informatico vero carta e matita su cui mi sono segnato un po' di così allora vi anticipo così vi dico subito che l'assassino è il maggiordomo vi anticipo che il tema non è solo quello che possiamo forse qualcuno immagino magari non è così è per carità qualcuno può immaginare legato agli hacker agli attacchi allora il tema è un po' più ampio e ho provato già a delinearlo in alcuni interventi che ho fatto ultimamente diciamo pubblicamente anche sul Corriere diciamo noi che cosa stiamo vedendo stiamo vedendo come e lo stiamo vedendo per la prima volta in maniera così forte ma perché lo stiamo vedendo per la prima volta in maniera così forte perché questa è una guerra che nasce in un momento in cui la maturità delle tecnologie digitali è tale per cui c'è anche un altro campo di battaglia cioè noi vediamo proprio parallelamente due situazioni vediamo una guerra lasciatemi dire convenzionale poi insomma io non sono non sono un esperto che è fatta di confini superati di attacchi di bombe di aerei di carri armati di insomma di quello che insomma abbiamo in testa quando pensiamo normalmente ad una guerra e poi c'è un mondo che in maniera purtroppo diciamo erronea viene definito virtuale perché non è virtuale è immateriale che sono due cose completamente diverse nel quale si 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 fa un'altra guerra io l'altro giorno appunto sul Corriere l'ho definita guerra invisibile che in realtà questa questa guerra invisibile è fatta di tanti piccoli pezzi adesso cerchiamo di metterli un po' tutti quanti insieme la l'invasione del 24 febbraio in realtà nasce eh dopo una serie di attività eh di guerra di guerra immateriale eh di guerra invisibile che eh da quelle parti in particolar modo in Russia si si porta avanti da un bel po' di tempo richiamiamo qualche concetto Mario ha detto più volte la parola sovranità diciamo cercando anche di mettere i puntini sulle i e quindi mi è piaciuto molto perché spesso si utilizzano le parole solamente perché le si vuole le si vuole connotare di un certo significato in certi contesti il tema della della dell'attività digitale della Russia viene è venuta spesso ultimamente negli ultimi anni diciamo in in all'attenzione dell'opinione pubblica ricordando i famosi troll russi e le batterie di hacker russi ci sono delle elezioni eh famose diciamo che sono state che sono entrate nella discussione pubblica e che hanno visto la presenza di troll russi molto massiva diciamo si dice che abbiano avuto un importante un importante ruolo in queste in queste elezioni così come negli ultimi cinque dieci anni e non sbaglio se allargo l'orizzonte temporale in tutte le volte che andiamo a fare un'analisi di quelli che sono stati gli episodi di di attacchi informatici e di in generale insomma quindi di 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 dos quelli che si chiamano denial of service o distributed denial of service quindi di dos o di dos quando si va a fare un'analisi e quando si fa questa analisi post-mortem in particolare non c'è quasi mai eh una volta in cui non non si capisce che c'è un pezzo di russia dentro questa 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 parte questi questi attacchi tutto questo sistema è un sistema che ha preceduto la 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 l'invasione della russia il della russia in ucraina il 24 febbraio e guarda caso l'ho l'ho argomentato proprio l'altro giorno io insegno alla magistrale un corso che si chiama internet data analysis quindi è un noi facciamo io faccio un'analisi di 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 fenomeni guardando ai dati di rete quindi guardando empiricamente a quello che succede sulla rete cerchiamo di capire bene il 24 febbraio dalle 5 di mattina alle 9 del mattino mentre la russia entrava in ucraina parallelamente la rete casat satcom che è la rete satellitare ip satellitare quindi l'internet satellitare quello che che utilizza come mezzo diciamo la connessione satellitare in ucraina andava giù piano piano ed è chiaramente quella è una rete che viene utilizzata per comunicazioni sia di natura sia di natura civile ma anche di natura militare evidentemente e pian piano andava giù quella ucraina e in cascata è andata giù quella quella della della Polonia della Grecia dell'Ungheria e e quindi mi collego ovviamente sto parlando di cose completamente diverse da chi mi ha preceduto però vedrete credo come in realtà stiamo poi arrivando a delle cose simili in realtà questa cosa poi ci ha riguardato molto da vicino perché quest'attacco fatto ai terminali casatta ha riguardato anche l'Italia e ha riguardato ovviamente tutte le utenze perché dov'è che noi abbiamo soprattutto in Italia e in generale le utenze di connettività satellitare le abbiamo nelle aree rurali dove non arriva la DSL e in Italia noi abbiamo un sacco di aree rurali dove non arriva la DSL quindi sono utenze servite dalla connettività satellitare quella che ci vende Skylogic per capirci e i sistemi industriali SCADA che vengono controllati appunto da remoto con una connezione satellitare fare un attacco che butta a terra diciamolo chiaramente una rete e quindi non ci permette più di collegare questi sistemi ha un certo impatto sia dal punto di vista quindi di utenti civili ma anche soprattutto dal punto di vista di utenti industriali e o militari la cosa interessante è che dopo 20 giorni dopo 20 giorni dall'attacco il 24 febbraio i dati sono riportati su un'organizzazione che si occupa di studiare la libertà in rete che si chiama netblocks e lo fa anche anche se utilizzando dati reali la cosa interessante è che dopo 20 giorni la rete non era ancora stata ripristinata è stato fatto un attacco sembrerebbe e tutte le volte che diciamo leggiamo queste cose non dobbiamo mai essere a sentire diciamo a chi non utilizza il condizionale sembrerebbe che l'attacco addirittura ha danneggiato irreparabilmente tutte le stazioni casatte come per cui è stato necessario sostituirle tutte perché vi dico questo? perché in realtà questo c'è stato collegato un altro aspetto quindi facciamo anche un po' di io voglio dire ai ragazzi che ci stanno ascoltando che chiaramente generazionalmente sono fortunatamente un po' più giovani di me del mio amico fraterno Gianluca Gianni noi siamo cresciuti con un film che si chiama Matrix se no capisco insomma anche la passione perché è figo assai pure il protagonista insomma Kenny Reeves guardate noi siamo in questo momento in delle situazioni dove abbiamo abbondantemente superato diciamo quanto veniva raccontato in questi film perché che cosa è successo? così capiamo anche quello che abbiamo letto su Twitter e su Facebook parallelamente a questa cosa del 24 poi c'è stato Elon Musk che con SpaceX ha messo a disposizione proprio i satelliti i satelliti per dare la connettività all'Ucraina connettività a internet e per far sì che appunto diciamo il paese potesse continuare ad essere connesso alla alla rete internet attraverso il collegamento satellitare che è un servizio commerciale che li vende e che si fa pagare anche molto 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 bene questo tema diciamo ha che cosa dove mi fa arrivare perché vi ho raccontato questa storia prima della Russia che aveva cominciato da un bel po' la sua guerra invisibile e l'ha continuata parallelamente a quella che invece è stata la guerra che il telegiornale e le immagini ci hanno mostrato con le bombe con i missili e con i proiettili ha elicitato la reazione di Elon Musk nei termini che vi ho raccontato poi vi dico qualche altra cosa magari più tardi se abbiamo tempo ma hai licitato anche un altro tipo di reazione una reazione che a mio avviso è molto interessante analizzare anche qui senza voler prendere posizione poi ciascuno di noi come diceva correttamente Gianluca decide quale posizione prende però c'è stata un'altra interessante interessante reazione che qualcuno peraltro ha delubricato in maniera secondo me scorretta che è stata quella del collettivo anonymous che è un collettivo interessante che è un collettivo che non ha una struttura dirigista che non ci sono capi diciamo e che adesso peraltro sta vivendo una fase nuova rispetto al suo passato perché adesso c'è un pezzo proprio di popolazione mondiale che ne chiede quasi l'intervento che cosa sta facendo anonymous anonymous ripeto un collettivo di hacker hacker to hack in inglese significa insomma incidere fare lasciare il segno purtroppo nella narrazione mainstream l'hacker è visto come uno cattivo tant'è che anche le immagini in realtà l'hacker è uno smanettone tant'è che nei nostri corsi noi ci occupiamo di hacking ma ci occupiamo di hacking etico il tema qual è? il tema è una volta che sai fare una cosa questa cosa la puoi usare diciamo sia per fare delle cose buone sia per fare delle cose meno buone e la puoi fare sia per attaccare ma soprattutto visto che lo sai fare quindi visto che sai attaccare puoi soprattutto difendere non so se avete visto è girata tantissimo subito dopo l'inizio della guerra una call della nostra agenzia nazionale per la cyber sicurezza che sta cercando 50 esperti di cyber sicurezza tra i nostri giovani perché oggi e quindi ancora una volta il titolo guerra e cyber guerra gli eserciti non sono più quelli che noi vediamo scendere in campo con i fucili ci sono degli eserciti fatti di esperti di informatica che non devono necessariamente essere arruolarsi prendo una parola del collega che mi ha preceduto arruolarsi per combattere ma possono arruolarsi per difendere per difendere il paese per difendere le infrastrutture critiche del paese perché adesso diciamo ne parliamo un pochettino che cosa ha fatto Anonymous e quindi così vengo un po' ad Anonymous e vi dirò perché io non sono d'accordo con chi dice che Anonymous finora ha fatto il solletico a Putin io preferirei se mi consentite diciamo e questo qua faccio un piccolissimo inciso personale parlare di Putin e non della Russia perché io credo che in Russia ci stanno tantissimi ragazzi come voi adesso in questo momento diciamo che probabilmente vorrebbero fare la stessa cosa che state facendo voi che vorrebbero fare la stessa cosa che stiamo facendo noi e che probabilmente non sono d'accordo con quello che sta succedendo non mi sento di poter sbagliando però non mi sento di poter dire magari la stessa cosa di Putin in questo momento quindi io farei una differenza abbastanza forte da questo punto di vista e tra l'altro sappiamo benissimo che in questo momento ci sono più di 16.000 persone che sono in carcere in Russia perché hanno manifestato pubblicamente o meno pubblicamente contro le decisioni di Putin per cui credo che dire Russia in questo momento sia forse forse lo dobbiamo anche appunto ai russi che non la pensano come Putin quindi io proverò a dire Putin e non Russia se ci riesco che cosa hanno fatto questi del collettivo Anonymous allora hanno cominciato delle azioni dimostrative dal primo giorno di guerra e per chi dico delle azioni dimostrative perché il tema dell'hacking etico che facevo riferimento poc'anzi Anonymous ha attaccato i siti web quindi i siti delle istituzioni di ospedali di centrali nucleari di ferrovie di aeroporto insomma ha attaccato i siti web non ha attaccato i siti fisici cioè l'ospedale ha continuato a funzionare e questo l'ha fatto anche attaccando l'agenzia per la censura russa e rendendo pubblici documenti in cui si vede dove l'agenzia per la censura racconta un pochettino quelle che sono le polisi in Russia per l'organizzazione per esempio di una manifestazione in piazza e che cosa bisogna fare e che cosa non bisogna fare se voi andate su dei siti che oggi sono pubblici perché il materiale è stato pubblicato trovate tutta una serie di indicazioni che vengono date agli organi che devono mantenere in qualche modo l'ordine pubblico nel paese rispetto all'organizzazione di una manifestazione per esempio e a come il singolo cittadino deve in qualche modo guardarsi intorno e dare una mano allo Stato per cercare di capire se c'è qualcuno che non la pensa nella stessa maniera quindi sono dei documenti in cui è tutto assolutamente riportato e di stamattina la notizia dell'attacco alla banca centrale anche lì sono state prese è stato fatto quello che si chiama data link sono state prese delle informazioni data branch scusate sono state prese delle informazioni e alcune di queste vengono rese pubbliche è stato fatto un'azione di cui avete letto sicuramente voi lo sapete è vero che Putin ha raccontato al paese l'intervento in Ucraina come un'operazione militare lui non ha usato la parola guerra non ha usato la parola invasione anzi ha fatto di più il 4 la Duma 4 marzo 4 marzo il 24 è entrata in Ucraina ha deciso che non si potevano più utilizzare le parole cioè i giornalisti non potevano più utilizzare le parole guerra conflitto e attacco cioè non si potevano chi lo faceva finiva o in galera o ai lavori forzati noi queste cose ce le dobbiamo ricordare e io vi ringrazio veramente non lo farò mai abbastanza ragazzi perché noi siamo in un paese dove nonostante tutta la narrazione che abbiamo avuto negli ultimi due anni noi oggi possiamo parlare di queste cose e queste cose ci aiuteranno sicuramente domani mattina ad essere diciamo diversi da oggi pomeriggio non lo so se migliori o peggiori però diversi diversi e questo è una roba incredibile cioè questo è e dà il senso al fatto che siamo un'università diciamo e che siamo una comunità tornando alla quindi alla propaganda perché poi che cos'è la propaganda che cos'è la propaganda collegata alla censura la propaganda serve a in qualche modo a far capire al nemico che ci sono delle situazioni pericolose cercare di aizzare invece le proprie truppe cercando di fargli far capire loro che le cose stanno andando bene far comprendere diciamo la popolazione soprattutto che era un'operazione importante necessaria insomma ci sono tutta una serie di cose da fare bene tutto questo è stato fatto con una propaganda di stato allora che cosa ha fatto Anonymous è entrata sulle tv tradizionali ed è entrata sulle tv streaming e ha mandato dei messaggi alla popolazione mandando dei messaggi e facendo vedere che cosa stava succedendo in Ucraina ok cioè mandando proprio dei video della famosa operazione diciamo militare in Ucraina la stessa cosa è stata fatta stampando sulle stampanti su centinaia di migliaia di stampanti dei documenti che le persone potevano leggere perché altrimenti non avevano la possibilità di conoscere delle informazioni stessa cosa è stata fatta da un altro collettivo sempre parte di Anonymous che ha preso un sacco di numeri di telefono russi un sacco di indirizzi mail russi ha messo a disposizione una piattaforma la trovate facilmente attraverso la quale scusate tutti noi possiamo mandare messaggi ai russi e possiamo scrivere in questi messaggi quello che sta succedendo allora vedete queste sono tutte azioni l'ho detto prima io diciamo che sono dimostrative evidentemente non è stato fermato né danneggiato per esempio la macchina da guerra russa e io credo che questo sia importante e faccia forse più paura perché e questo ve lo dico tecnicamente Anonymous può tranquillamente anche fermare quella macchina lì al momento non è stato ancora fatta perché e vedete qui mi collego un'altra volta alle parole di chi mi ha preceduto perché fare questo significa esacerbarlo il conflitto è come dare delle armi è come e quindi adesso io non voglio entrare in analisi diciamo di natura geopolitica per l'appunto perché non fa parte le mie competenze ma fare un'azione dimostrativa non significa non avere delle competenze per poterne fare una non dimostrativa e mi fermo qui diciamo questo è quello che mi faceva piacere passarvi come come concetto ha fatto un'altra cosa molto interessante e vengo al tema della dipendenza economica energetica e tecnologica e poi vado a chiudere ha fatto una cosa molto interessante tre giorni fa ha fatto l'elenco delle grandi aziende ancora presenti in Russia e ha detto guardate io vi do 48 ore di te noi io non io è un collettivo noi vi diamo 48 ore di tempo se tra 48 ore non ve ne andate noi vi attacchiamo ok adesso qua siamo d'accordo non siamo d'accordo abbiamo detto non è questo il tavolo non se ne sono andati e al grido e quindi ci stanno in aula i ragazzi al grido dell'hashtag boycott Nestlé è stata attaccata la Nestlé e in particolar modo un sistema dove erano presenti tutti i partner Nestlé sono stati resi pubblici dati di tutti i partner Nestlé giro per il mondo e compresi poi tutti gli indirizzi di tutte le seti Nestlé nel mondo dicendo vicino alle persone scrivete alla Nestlé del vostro paese e dite e dite che se ne deve andare dalla Russia quindi ancora qui una fortissima azione dimostrativa che ha portato ieri sera ieri notte credo quando l'ho letto la Nestlé ha dato un comunicato cioè la Nestlé alla fine ha detto va bene e guardate che la Nestlé è la food company più grande del mondo azienda maggioranza svizzera non fa più solo food fa anche Cosmeis insomma oggi è veramente una una roba incredibile che dice che dice ad un collettivo ad un collettivo e in questo contesto mi fa piacere ribadirlo dice ad un collettivo guardate che noi non stiamo facendo più pubblicità in Russia non stiamo facendo più investimenti in Russia quindi abbiamo cambiato la nostra posizione stiamo semplicemente vendendo cibo alla popolazione e ci sembra giusto continuare a farlo che è una posizione capite bene ben diversa rispetto a quella dell'iniziale diciamo di restiamo in Russia perché ci crediamo tutto questo tema diciamo della propaganda del posizionamento diciamo di soggetti economici così forti è un tema che si è esasperato ancora di più quando lo andiamo a guardare dal punto di vista delle grandi piattaforme tecnologiche a chi sto pensando sto pensando per esempio ai social network che prima prima hanno che cosa hanno fatto i social network hanno preso una posizione nettissima per la prima volta stavolta ex ante non ex post come è successo per esempio con gennaio dello scorso anno con le elezioni del presidente americano prima hanno cominciato a segnare sui post e quindi su tutta diciamo l'azione comunicativa di tutti i profili associati alla comunicazione istituzionale russa hanno cominciato a dire guardate che questo è un profilo collegato al governo questo è un profilo collegato al governo per cui hanno cominciato ad indicare a chi leggeva sostanzialmente il fatto che quella fosse una propaganda governativa e questa cosa qui diciamo quando tu non la riesci a capire se c'è qualcuno che te lo dice le cose cambiano tant'è che che cosa è successo è successo che in sequenza prima twitter poi facebook e recentemente instagram sono stati bloccati in russia ok questa azione diciamo ovviamente ha fatto apre un discorso importante che fino ad ora diciamo la controversia era una controversia russia italia lasciatemi dire no russia italia perché dico italia perché fatemi fare anche un po' il professore di ingegneria informatica e di cyber security da quando è cominciato il conflitto il numero di attacchi sulle nostre infrastrutture tecnologiche è aumentato incredibilmente in particolar modo quello relativamente all'area delle banche e della finanza è aumentato più del 25% da quando abbiamo cominciato il conflitto quindi è chiaro che c'è una 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 relazione tra 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 russia italia anche da questo punto di vista la novità enorme di cui peraltro con gianluca ci siamo già messaggiati la novità enorme enorme è che queste aziende che sono aziende oggi che per capitalizzazione capitalizzazione quindi hanno diciamo delle liquidità e una capitalizzazione più grande di banche apple per esempio una di queste è la prima in assoluto ma le altre a seguire diciamo non scherzano queste aziende hanno una capacità e stiamo parlando di una big tech cioè di un social network di potersi sedere e decidere di avere un impatto importante all'interno di un conflitto come quello russo-ucraino in questo momento quindi nei fatti è come se appunto hanno preso una posizione alla stessa stregua di uno stato questa è una cosa che non era mai successa non era mai successa noi dobbiamo riflettere su questo e mi collego a quanto sempre è stato detto da chi mi ha preceduto sul tema della dipendenza energetica perché noi abbiamo fatto una 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 politica peraltro utilizzando gli stessi troll russi perché io vi posso dimostrare non lo faccio adesso che abbiamo poco tempo ma se vi fate un giro lo trovate gli stessi troll russi utilizzati per la campagna elettorale sono gli stessi troll russi utilizzati per la campagna referendaria sono gli stessi troll russi utilizzati per la campagna vaccinale quindi è sempre se onovax osivax ripeto non voglio dire diciamo perché così non dobbiamo fare nessun tifo diciamo oppure non nucleare sin nucleare c'è una fortissima propaganda in queste cose bene gli stessi vengono utilizzati adesso dobbiamo fare una serie di riflessioni siamo stati un paese che ha rinunciato rinunciato a prendere una posizione moderna sul tema dell'energia e dipendiamo dipendiamo pesantemente energeticamente da evidentemente diciamo adesso non lo scopro io oggi pomeriggio dal punto di vista del gas alla Russia qualcuno propone di fare di scangiarci dalla Russia e passare a qualche altro tipo di sorgente energetica rischiamo dobbiamo stare molto attenti di passare dalle mani della Russia alle mani di qualcun altro perché quello che dobbiamo fare noi invece è capire seriamente che tipo di politica energetica vogliamo mettere in campo perché vi ho fatto questo esempio perché alla politica energetica adesso siamo tutti sensibili al tema della dipendenza energetica dalla Russia perché stiamo vivendo questo tipo di conflitto io però faccio il lavoro nel quale sto dicendo da vent'anni che abbiamo lo stesso identico problema perché viviamo una dipendenza tecnologica dall'estero in maniera incredibile e se oggi è la Russia e il problema è il gas io non lo so tra dieci anni tra vent'anni che sarà e quindi il tema della dipendenza oggi è un tema cruciale per lo sviluppo di una nazione esempio quindi non faccio solamente diciamo l'esempio noi abbiamo una dipendenza tecnologica perché oggi la tecnologia è sostanzialmente una tecnologia americana molte delle nostre pubbliche amministrazioni per esempio utilizzano servizi di Google per la propria posta elettronica e per altre cose ok ma noi siamo gli alleati dell'America certo ho capito c'avevamo pure Putin che veniva a fare un sacco di cose qua in Italia fino a un po' di tempo fa quindi dobbiamo comprendere che tutte le volte che abbiamo una dipendenza siamo ricattabili vi faccio però l'esempio sempre della dipendenza tecnologica quindi non parlando adesso delle piattaforme americane ma parlando di una cosa di cui peraltro mi è stato chiesto e con un mese di anticipo avevo detto la mia poi siamo arrivati che è il tema della dipendenza sempre tecnologica dalla Russia che tutti i nostri ministeri hanno e hanno avuto perché le gare sul mercato della pubblica amministrazione il MEPA venivano fatte così con l'antivirus russo Kaspersky non so se ne avete letto di questa cosa quindi noi ci siamo trovati con la stragrande maggioranza dei nostri ministeri in particolar modo i ministeri guardate che è paradossale è caffeghiana la situazione il ministero degli esteri esteri con Kaspersky installato e voi sapete che cos'è un antivirus un antivirus è un oggetto io metto su dei computer che c'ha un nodo centrale che mi gestisce gli aggiornamenti dell'antivirus e quindi decide attraverso questi aggiornamenti che cosa deve passare e che cosa non deve passare innanzitutto primo per capire se c'è un virus poi che cosa deve fare il demone che c'ho installato sul mio computer deve andarsi a guardare tutti i file che c'ho sul mio computer per capire se c'è un virus o non c'è e quindi poi lo deve bonificare ma per bonificarlo ripeto deve andare a fare una scansione di tutto il mio hard disk capite bene che quella è la 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 più semplice in assoluto qualora qualcuno decidessi di utilizzare il sistema di antivirus per attaccare i computer su cui questo antivirus è installato quindi è evidente che nel momento in cui parte un conflitto forse la cosa istantanea che devi fare ci è arrivato diciamo Gabrielli una settimana fa dicendo forse è il caso e adesso e comunque siamo ancora alle a delle a delle diciamo raccomandazioni forse è il caso allora quindi il tema la riflessione il messaggio che lancio diciamo al consesso e vado a chiudere invece faccio come report faccio la bella notizia si chiudo con la bella notizia il messaggio che lascio è un messaggio di stiamo attenti alle dipendenze non ci dimentichiamo di quelle tecnologiche e tecnologiche in particolar modo legate alle tecnologie dell'informazione a proposito di tecnologie dell'informazione chiudo stamattina leggevo una cosa ne scriverò a breve tra qualche giorno perché è una cosa che mi ha colpito oltremodo veramente la classifica delle app più scaricate in Ucraina io adesso se fossi in aula con voi avrei lanciato una specie di questionario facciamo alzare ma secondo voi quali sono le app più utilizzate in Ucraina in questo momento io quando ho visto l'elenco mi sono ci ho avuto stamattina veramente un momento tra Covid e la cosa che ho letto sono rimasto diciamo 10 minuti abbastanza turbato la prima e sto veramente chiudendo la prima è quella Starlink che vi dicevo prima Starlink è l'app il client che mi serve per collegarvi a internet attraverso SpaceX che è la rete satellitare di Elon Musk per solito poi dopo ne parliamo la seconda la seconda è l'app che notifica che notifica l'allarme aereo cioè quando sta arrivando un attacco aereo ok cioè la prima è quella che mi permette di connettermi ad internet la seconda è quella che mi notifica l'allarme aereo e guardate le altre due le altre due sono dal mio punto di vista terrificanti perché le altre due sono un'app che si chiama Hobby Me e forse qualcuno diciamo i boomer che stanno che vedo dietro la scrivania non sanno di che sto parlando ma gli altri forse sì che è un'app che è una roba incredibile perché utilizza il concetto di sense gen che è che praticamente non scrivo non parlo non faccio niente ma condivido con un social tipo tipo whatsapp condivido le mie emozioni utilizzo solamente emoticon quindi sto sotto le bombe e l'app che mi che mi che mi che mi stallo è un'app che mi permette di di condividere con Gianluca con cui mi scrivo ogni sera senza parlare ma mandandogli quella che è una mia emoticon e probabilmente lo faccio mentre mi stanno stanno bombardando la mia città l'ultima e guardate e mi ha ricordato Anna Frank l'ultima e perciò sono è stata una roba allucinata l'ultima app quindi la terza quarta in classifica è l'app per leggere i libri sullo smartphone quindi io sto utilizzo un'app che mi dice quando è che mi devo andare a mettere in un rifugio e poi se quelle sono le quattro più scaricate probabilmente mi scambio le emozioni con i miei amici e mi leggo un libro e questa roba diciamo dà un senso di come questa guerra e cyber guerra secondo me diciamo stanno insieme e da questa guerra in poi difficilmente le vedremo le vedremo un'altra volta separate grazie ancora per avermi invitato e vi ringrazio perché ho imparato tantissimo stasera grazie grazie davvero professor Pescafè perché penso che la ringrazio perché questo tipo di conversazioni di messa in contatto e messa in dialogo proprio tra punti di vista permettono di rompere un po' il solipsismo a cui spesso si cade che appunto era un po' la premessa quando parlava di necessità ci siamo trovati immersi in questo discorso unico diciamo in qualche modo quindi è importante incontrarci oggi e moltiplicare occasioni di questo tipo anche appunto come diceva molto bene per ricostruire un senso insieme nell'università come comunità e quindi la forza che veramente possiamo sviluppare se ci organizziamo in qualche modo su tutti i diversi livelli su cui è necessario farlo quindi la ringrazio davvero tanto a nome appunto delle realtà che hanno organizzato questo momento di Link sicuramente ma con il corso di laurea triennale in filosofia che appunto è coorganizzatore di questa giornata e passo la parola per concludere questa nostra tavola rotonda a Gennaro Piccirillo che è attivista della carovana Safe Passage in Ukraine che è tornato circa una settimana fa dalla Polonia e che ho il piacere con quel piacere di condividere la rappresentanza in consiglio degli studenti di Ateneo e l'intervento avrà come oggetto il racconto del confine ucraino e la solidarietà come fondamenta dell'Europa dei popoli Allora io per il mio intervento ringraziando chi ha organizzato questo incontro e soprattutto tutti quelli che mi hanno preceduto e che insomma oggi ci hanno dato la possibilità di produrre un dibattito che evidentemente mancava vista anche la partecipazione non usuale ad un incontro che dura oltre due ore all'università e quindi ringrazio anche tutti quelli che sono ancora qui ad ascoltare quello che abbiamo da dire e spero che potremo anche confrontarci insieme su quello che poi tutti abbiamo provato e proveremo a condividere ancora con voi io diciamo comincio come Sina diceva in precedenza raccontandovi un po' il viaggio che abbiamo che abbiamo sviluppato innanzitutto io vi dico in sala c'è un altro degli attivisti che con me è partito il 16 di di questo mese ed è tornato il 20 ed è Alfonso De Vito che è stato lì e sicuramente se io mancherò di riportarvi qualcosa c'è lui che insomma ha portato avanti con me questa quest'idea e con tanti altri che sono partiti che insomma era un'idea semplice alla base la nostra è stata una scelta di solidarietà per praticare insomma un'idea un'idea diversa di come di come ci si può mettere in relazione ad un problema come la guerra anche visto che nel nostro paese insomma di solidarietà abbiamo dato prove non degnissime almeno questa è la mia personalissima opinione e poi ci arriverò dopo quando vi avrò raccontato del viaggio noi siamo partiti il 16 di questo mese mercoledì scorso quindi e dopo 27 ore di viaggio circa siamo arrivati al confine tra Polonia ed Ucraina la missione prevedeva la partenza di tre Pullman da Napoli e Van che in totale insomma da Padova Roma Bologna e Napoli insomma raggiungevano alcuni hanno raggiunto Leopoli oltre il confine Polacco e hanno portato degli aiuti la missione nel suo complesso appunto viveva di due parti la prima quella del sostegno a quelle popolazioni portando bene di prima necessità chi era nei campi e anche chi era oltre il confine per quelli che lo hanno fatto e poi una fase di ritorno che è la fase insomma che ci ha visto portare oltre cento persone insomma indietro da dal confine dei campi profughi qui in Italia accolti ovviamente sia dalla solidarietà istituzionale che da quella collettiva che tutti i napoletani e le napoletane che hanno che hanno scelto di ospitare anche delle persone che venivano da un paese l'Ucraina che è ai confini dell'Europa e che insomma ci ha dato però la possibilità di riflettere questo viaggio perché abbiamo potuto vedere per me è stata la prima esperienza io non ho fatto viaggi di questo tipo chi ha viaggiato con me invece era stato in tantissimi altri campi profughi e insomma abbiamo potuto notare come c'è una grande organizzazione e anche delle condizioni umane per le persone che scappano dalla guerra nei campi di Korciowa di Medica di Premissel utilizzo la pronuncia tedesca perché non ci sono riuscito ad imparare quella in Ucraino però in Polacca e quindi in questi tre campi profughi noi abbiamo trovato delle situazioni sì diverse ma comunque umane per quanto si possa definire umana la condizione di bambini e donne ahimè la maggior parte erano soltanto bambini e donne e su questo faccio un collegamento a quanto veniva detto prima realmente diciamo brevissimo attenzione a dire la resistenza ucraina perché la costruzione obbligatoria è una premessa con la quale non si può definire una resistenza la resistenza è una scelta di chi vive quel territorio e di chi è libero di decidere se imbracciare le armi per difendere la propria terra o no la resistenza è questo quello che accade in Ucraina è di fatto ed è conseguenza di una scelta politica di chi ha istituito una legge marziale di chi in quel paese ha come dire sovvertito la democrazia liberale anche come la intendiamo noi perché mettere al bando partiti che prendono anche oltre il 10% del consenso elettorale non è una scelta europea o quantomeno aderente anche ai canoni più lontani della democrazia liberale questo è accaduto in Ucraina questo è accaduto con il governo di Zelensky che è un personaggio che sa interpretare sicuramente un certo sentimento di rivalsa e una frattura che esiste nel popolo ucraino diviso tra filorussi per diciamo i cittadini ucraini essere definiti filorussi basta per essere incarcerati per essere fatti fuori dalla vita pubblica e per vivere come dire se riescono a viverla infernale essere filorussi in Ucraina anche prima del conflitto significa vivere una situazione che ci hanno spiegato le persone realmente drammatica si vede proprio la propria esistenza nell'idea di controllo nell'idea di ghettizzazione che in quel paese purtroppo si è determinato con questo ovviamente non voglio come dire in alcun modo sminuire quello che sta accadendo in Ucraina noi insomma nella nostra notizia ufficiale è stata quella di non stare né con Putin né con la Nato perché insomma il caso Sbelli che scatena questa almeno mainstream viene raccontata così è la questione dell'allargamento ad essere Nato per quanto insomma ho altre le ragioni quando terminerò diciamo il racconto perdonatemi la digressione del viaggio lo approfondirò noi abbiamo insomma anche viaggiato poi per il confine un po' più a nord perché quando siamo arrivati in Polonia quando diciamo la sera del giovedì siamo arrivati nel campo di Premissel la notte circa diciamo alle 5 del mattino l'aeroporto di Leopoli è stato bombardato e quindi insomma il cordone umanitario se così lo possiamo definire perché è molto complicato immaginare qual è la condizione di chi non ha la garanzia che andando in quella direzione non venga bombardato perché di fatti insomma anche quello che abbiamo visto quello che è accaduto successivamente e precedentemente non ci dà questa garanzia si è spostato perché ovviamente quella tratta non era più percorribile il governo polacco in quei giorni stessi ha bloccato il flusso di migranti perché questo è quello che è accaduto al fronte cioè noi siamo arrivati lì pensando in qualche modo di trovare migliaia di persone ma proprio in quei giorni a causa degli eventi che comunque si sono sviluppati in quelle ore il flusso è deviato e noi abbiamo cercato andando più a nord sul confine polacco in altri campi in altre situazioni in altri luoghi provare a trovare un modo per comunque tornare con tutte le persone che immaginavamo di dover portare via è stato un viaggio un po' più complesso del previsto anche perché questi eventi lo hanno cambiato però anche provando a spostarci nelle zone la stazione di Medica a pochissimi chilometri e due chilometri dal confine ucraino era praticamente il primo punto di appoggio il primo punto di passaggio dei profughi e da lì venivano smistati nei vari campi Premissell è tra i campi più grandi l'altro campo che abbiamo visto una volta capito che c'erano questi problemi di flusso verso Premissell è stato quello di Corciowa che è un ulteriore campo in cui noi abbiamo potuto la prima cosa che notavamo almeno che abbiamo notato tutti noi italiani all'arrivo è stata questa grande organizzazione questa grande solidarietà fatta da giovani attivisti che insomma lì spagnoli portoghesi diciamo tutta la maggior parte dei giovani europei presenti nelle reti associative o comunque di solidarietà e di soccorso erano lì ad organizzare la solidarietà e ad organizzare le partenze e ci siamo molto aiutati tra di noi anche perché poi ci sono stati non pochi problemi logistici insomma nei campi proprio anche con le organizzazioni con chi gestiva il flusso ovviamente ci siamo registrati tutto un procedimento molto molto complicato ma diciamo questo nostro giro questa nostra missione poi ha portato insomma in Italia tre pullman carichi di persone e insomma non sto qua a fare diciamo un ragionamento su quanto può essere quanto quello che si vede in luoghi del genere può toccare ognuno di noi anche perché insomma vorrei tenere la cosa su un piano un po' più un po' più serio un po' più di ragionamento e non vorrei scadere nell'emotività che evidentemente è un po' a volte la parte che interessa di più e questa è una cosa che a me personalmente ha molto diciamo fatto riflettere no? Il fatto che io abbia visto la mia pelle che era bello no? Andare lì a salvare delle persone io nella mia vita almeno ho sempre sono un attivista e conosco tanti conflitti potrei elencarne dire Afghanistan Palestina Iraq Yemen Chad lì insomma potremmo non finire mai no? Parlando di popolazioni afflitte dalla guerra che abbiamo visto né vedere che il rispetto a una popolazione ai confini dell'Europa ci fosse così tanta emotività mi ha fatto riflettere molto sul perché la risposta che ho provato a darmi è stata quella insomma del punto di vista il nostro è un punto di vista occidentale impregno di tutta quella no? etica quella moralità che ci contraddistingue noi guardiamo il mondo e la storia dal nostro punto di vista e ovviamente la guerra alle porte dell'Europa e vedere una popolazione simile alla nostra da tutti i punti di vista ci fa solidarizzare di più non guardando nemmeno alle ragioni della del conflitto in sé ma è ucraino ed è diverso sicuramente dal magrebino o da l'Africa nera che vogliono lasciare il proprio paese e io su questo insomma faccio alcune considerazioni rispetto alle ragioni del conflitto ma non mi citi lungo più che altro è per insomma sviluppare anche un confronto dialettico con chi mi ha preceduto e credo che come dicevo prima evidentemente questa guerra si sviluppa su una questione principale no? che è quella dell'allargamento a destra della Nato almeno questa è la propaganda no? che Putin dal primo momento messo messo avanti alla propria operazione militare quella che è definita un'operazione militare perché poi tra l'altro volendo essere precisi e anche a seguito dei confronti avuti con le persone che vivono quei posti soprattutto la zona est dell'Ucraina quindi il Donetsk e il Lugansk che sono due regioni io ricordo industriali sono due regioni molto importanti logisticamente e strategicamente rilevanti per diciamo l'economia ucraina e anche per tutto quel crocevia di scambi e di asset che nell'est Europa determinano il collegamento con la nuova via della seta con i nuovi collegamenti energetici infrastrutturali e quindi non a caso io credo tendo a credere che la mossa russa sia evidentemente quella di provare ad appropriarsi in un futuro guardando ad un futuro in cui sarà sempre più difficile perché poi il concetto è questo la guerra è una conseguenza del nostro modello di vita del modello di mondo che noi abbiamo scelto è banale dire appunto il bene e il male è banale provare ad individuare un nemico e i toni del nemico in questo caso sono esattamente inquadrabili nel contesto che abbiamo costruito perché in questo contesto la guerra è evidentemente per la supremazia ed una potenza come la russa è abituata a contare nello scacchiere globale di certo a fronte di quello che sta accadendo a fronte del cambiamento climatico della transizione energetica e tutto quello che dovrà accadere perché indipendentemente dal fatto che oggi la Russia può meno decidere di staccare il gas all'Europa noi stiamo andando in una direzione in cui quelle risorse che la Russia ha non serviranno più e non a caso la Russia si impegna a seguito diciamo delle operazioni militari francesi in Mali soprattutto nella regione del Sahel si impegna con dei gruppi paramilitari per cui ha ricevuto anche delle sanzioni ad intervenire nei paesi della fascia del Sahel che sono Mali Sudan Chad Niger sono paesi in cui esistono alcune tra le principali risorse come dire che almeno nell'idea di energia pulita verso la fusione l'uranio nel nostro pianeta in quella fascia di territorio africano è presente ad altissimi livelli così come tanti altri minerali ci sono decine di aziende russe che attraverso l'impegno del gruppo Wagner quindi il controllo di quelle zone questo impegno non nasce a caso dieci anni fa dopo che i francesi smettono le loro operazioni militari in Mali destabilizzato intervento del terrorismo islamico e quindi per questo non è una guerra che scoppia oggi insomma non è una guerra che nasce sulla questione della Nato quello è il pretesto attraverso il quale si sviluppa questa guerra e la Russia sta procedendo per spiegare anche un po' il conflitto come va avanti perché noi poi diciamo la guerra in Russia la guerra che la Russia porta in Ucraina è una guerra non come abituati noi dal punto di vista occidentale noi siamo abituati alle guerre che a trazione americana noi abbiamo sostenuto guerre in cui si entra in un paese dopo 15 anni lo si lascia e poi insomma restano un sacco di problemi dal punto di vista militare la Russia almeno da quello che ci raccontavano anche sono potuto confrontare con una signora del Donbass una donna che veniva dal Donbass e una ragazza che veniva da Kharkiv che sono due città appunto di quella costa i russi agiscono insomma ad insiemi pretendono ad inglobare piccoli pezzi di territorio una dinamica prussiana di Bonklausel insomma a pezzi a pezzi loro prendono il territorio lo stabilizzano e poi continuano ed è anche questa una scelta quella russa anche per evitare ulteriori sanzioni ma è una guerra identica e che produce comunque ha prodotto fino ad oggi a 5 giorni fa il Corriere di Portavo 816 vittime civili di cui tantissimi bambini e tantissime bambine e di fronte a tutto questo e di fronte a tutte queste considerazioni che ci devono essere chiare perché poi insomma è facile scadere nel tifo tra insomma una fazione piuttosto che l'altra questo forse reggeva in un momento in cui il mondo era diviso in blocchi in cui c'erano idee contrapposte di mondo da portare avanti e necessariamente la guerra è uno strumento che purtroppo la nostra specie ha da sempre utilizzato per la risoluzione dei conflitti è evidente che non esiste una guerra giusta perché nel mio e nella mia idea di società e di mondo non si dovrebbero risolvere le controverse attraverso la guerra un ulteriore elemento che però tengo a sottolineare è che tutto questo conflitto arriviamo al punto in cui sono due le forze che gli stati che provano a mediano nel conflitto russo-ucraino e sono la Turchia di Erdogan e Israele non esattamente a mio modo di vedere due paladini della della democrazia o quantomeno l'uno la Turchia di certo non lo è come Erdogan ha trattato i docenti universitari gli studenti e gli oppositori politici ricorderete tutti insomma non so che a spiegarlo il conflitto in Palestina esiste ormai da decenni come Israele risolve le controversie per quanto dichiari sulla stampa che la guerra non è un modo i missili non sono un modo per risolvere le controversie domandatelo ai palestinesi se è quello o non è quello il modo detto ciò queste due forze stanno mediando ma in che termini stiamo mediando con la Russia quali sono le qual è il dibattito dove nasce perché nel nostro paese il dibattito non esiste perché rispetto alla transizione energetica c'è il ministro che ha diciamo carta bianca sull'intervenire perché insomma siamo in uno stato d'emergenza e quindi il ministro senza passare per il Parlamento deciderà qual è la politica energetica del nostro paese al contempo ai nostri parlamentari è stato vietato di raggiungere Kiev di raggiungere l'Ucraina i parlamentari italiani non possono andare in Ucraina ci sono alcuni parlamentari europei che abbiamo potuto incontrare italiani lì sul confine che proprio denunciavano anche questa vicenda perché come dire è rilevante che il nostro paese stia impedendo di fatto ai parlamentari di provare a costruire anche una loro presenza fisica perché quello che serve e ce lo dicono gli ucraini diciamo noi non sono le armi perché dando armi fornendo le armi al popolo ucraino che non è un popolo che sta resistendo ma è un popolo che è costretto che gli uomini non possono attraversare il confine cioè un uomo che attraversa il confine ucraino diventa un disertore ed è una cosa per cui insomma sono previste delle conseguenze e quindi quella gente costretta a lottare magari qualcuno lo vuole anche fare io non sto qua diciamo a come dire interrogarmi di questo discuto la libertà di queste persone noi stiamo dando ad un popolo è costretto a resistere nel proprio paese le armi e quindi non solo l'Ucraina li costringe ma noi diamo le armi a questa gente tanti di loro costretti arrestare il loro paese a morire ad accompagnare le loro moglie e i loro figli al confine le loro sorelle e le loro cugine al confine a tornare in Ucraina e a combattere con le nostre armi beh insomma io faccio parte di quelli che invece insomma hanno deciso di andare lì a salvare delle vite e credo che se fossimo andati carichi di armi non avremmo salvato nessuno anzi perché poi diciamo la banalità più grande del mondo è che le armi servono ad uccidere non servono a salvare le persone cioè fornire armi all'Ucraina non è una modalità tant'è che la Spagna non l'ha fatto un altro paese europeo che ha deciso di non inviare armi in Ucraina noi abbiamo inviato armi in Ucraina ma diciamo poi potrei andare troppo in là con il ragionamento e quindi diciamo a retro quando provando a tornare su un elemento che è quello della solidarietà che è quello del punto di vista italiano noi abbiamo tanto da imparare in questa vicenda e lo possiamo fare soltanto confrontandoci e guardando anche in faccia le responsabilità che tutti noi come cittadini italiani abbiamo perché noi siamo il paese che più di ogni altro in Europa sa che cos'è vivere un flusso migratorio vivere insomma il dramma di chi fugge da guerre e da situazioni difficili per le quali l'unica soluzione è a lasciare la propria terra e noi siamo pur sempre il paese che però gestisce i flussi migratori così come le cronache ce lo raccontano in Libia non è che non ci sono campi di contenimento utilizzo questo termine perché sono all'università però ci sono campi di contenimento dei profughi in Libia finanziati dallo Stato italiano l'ha fatto l'ex ministro dell'interno Minniti nemmeno diciamo il suo famosissimo anche in Polonia successore Matteo Salvini e quindi dovremmo molto interrogarci su questo su che cos'è per noi la solidarietà perché se la solidarietà per noi è l'indice di quello che come dice gradisce o meno il popolo e quindi di quello che dobbiamo fare e ora stiamo accogliendo tutti i profughi ucraini e io sono per accogliere tutti i profughi ucraini che scappano dalla guerra vorrei che fossero tutti liberi di lasciare il loro paese perché due milioni di profughi sono per lo più donne e bambini e sono il 5% della popolazione in Ucraina e vorrei come dire che ci guardassimo anche in faccia e sapessimo riconoscere quali sono stati i nostri limiti e come si può costruire un'Europa realmente solidale e come la solidarietà possa fare poi da fondamento ad un'Europa dei popoli ad un'Europa come entità che sappia prendere una posizione in questo spazio perché noi una posizione in questo spazio non ce l'abbiamo perché la Spagna decide di non inviare armi noi inviamo armi la Germania al contempo investe il 2% del PIL in armamenti una cosa che evidentemente se uno Stato dell'Europa decide di investire il 2% del PIL in armamenti non è che se le terranno insomma uno compra il 2% del PIL in armamenti e non le utilizzerà mai è comunque una direzione pericolosa perché armarsi è il primo passo verso la risoluzione dei conflitti attraverso le armi tra l'altro un paese come la Germania che come il nostro ha dimostrato insomma nella storia di non sapere utilizzare proprio le armi al mio modo di i conflitti non abbiamo diciamo mai capito probabilmente continuiamo a non capire anche perché palediamo agli altri questa cosa è devastante tant'è che questa mattina proprio il movimento globale di Fridays for Future è andato alla Leonardo per denunciare perché poi si sta legando molto la vicenda solidale alla vicenda della transizione energetica domani ci sarà un corteo a Napoli di Fridays for Future che denuncerà insomma questa questa connessione che esiste tra le questioni che riguardano la guerra che sono questioni legate al cambiamento climatico perché questa è una guerra è una delle prime guerre che noi nei prossimi anni ci ritroveremo ad osservare che parte e nasce da questo problema qui dal problema dell'energia dal problema delle risorse e credo che dobbiamo provare anche a a ragionare insieme non soltanto oggi di come possiamo però e questo proverà a farlo una manifestazione a Napoli il 2 aprile per la pace contro la guerra si scenderà in piazza sabato alle 16 a piazza a piazza a piazza del Gesù una manifestazione che vuole provare a dare un punto di vista da chi società dalle associazioni dai comitati dai collettivi che provano a dire che c'è tanto bisogno di manifestare noi in questa città stiamo provando a portare avanti questo questo momento di confronto ma se guardiamo all'Europa sono molto più avanti di noi molto più avanti di noi molto più capaci di produrre una mobilitazione e insomma io penso che in questa stanza tutti siamo d'accordo rispetto al fatto che non esistono profughi di serie A però vi assicuro che le persone che non hanno la pelle chiara e gli occhi azzurri e i capelli biondi non riescono ad andare via dall'Ucraina con la stessa facilità e che anche quando arrivano qui non vengono trattati allo stesso modo ci sono 5 studenti equadoregni che studiavano a Kiev che sono venuti con noi a Napoli e ora non sanno tra un po' non sapranno cosa fare perché? perché sono equadoregni che tu li vedi è vero cioè tu li vedi e non sono non riesci nemmeno ad empatizzare probabilmente come popolo proprio noi come cioè non riusciamo a ritenere tutti uguali le persone di colore le persone nere dall'Ucraina hanno difficoltà di uscire i siriani hanno difficoltà ad uscire ma qual è la ragione per cui insomma questo accade è semplice razzismo o è il nostro punto di vista occidentale che ci porta a stare più con chi è a noi dal punto di vista estetico dal punto di vista culturale ma questa è la solidarietà di serie A è la solidarietà di prima classe seconda classe solidarietà non ha classi è solidarietà punto quindi se l'Europa non sviluppa questo tipo di capacità di riconoscere i drammi umanitari e di praticare una solidarietà che sia vera e costante e indiscriminata rispetto alle persone credo che questo è il vero problema per cui noi non riusciamo a fare della solidarietà l'elemento collante dell'Europa e chiudo veramente il mio intervento dicendo che insomma a mio avviso esiste sicuramente una grossa difficoltà oggi nel paese a prendere parola dire la nostra da un punto di vista un po' più collettivo lo stavo provando a fare oggi qui in un'aula universitaria con tanti colleghi e tanti colleghi studenti che di certo di questa vicenda avranno parlato a lungo e continuano purtroppo a parlare a lungo ma io vorrei ricordare a tutti che fuori da questa stanza se apriamo la televisione cioè se accendiamo il televisore e apriamo il computer la prima cosa che ci esce probabilmente è la dichiarazione di uno che ha il 30% aveva il 30% alle ultime elezioni politiche in questo paese e che lo dice proprio che esistono profughi di serie A e profughi di serie B non è che diciamo lo lascia intendere Matteo Salvini lo dichiara che esistono profughi di serie A e profughi di serie B ma di là del fatto che può stare simpatico o meno insomma questo significa parla di un pezzo del paese parla di un pezzo del paese che sa essere su quella su quella linea essere d'accordo con lui ed è la ragione non ha caso insomma viene assimilato Salvini a Putin Putin dice e utilizza nel suo discorso di invasione il termine di nazificazione perché Putin parla a quelle persone che vivono le regioni dell'est ucraina e che hanno subito da parti insomma ucraino delle persecuzioni cioè questa è la propaganda noi dobbiamo riconoscere la propaganda ma non la fa soltanto Putin la fanno anche in Italia è il passo per proteggerci da questo da questo pericolo da questo rischio e sapere interpretare a schemi quello che quello che accade e saperci saper dare una risposta chiudo il mio intervento dicendo che io lo spero molto che partire dalla solidarietà ci faccia raggiungere una dimensione europea ma credo che il nostro continente soprattutto la nostra entità sovranazionale istituzionale che è l'Unione Europea debba necessariamente cominciare ad interrogarsi di quanto all'interno di se stessa abbia però dei rigurgiti che non appartengono forse non appartengono alle democrazie liberali che pure vanno riviste e vanno rimodulate e vanno riscritte ma se guardiamo all'Ungheria se guardiamo alla stessa Polonia e se guardiamo alla Turchia che è uno dei primi esercizi della Nato non sono paesi così lontani dall'assolutismo russo semplicemente si trovano in una sfera di influenza per la quale non hanno questo bisogno primario di reagire allo stesso modo con questo dico proviamo a costruire mobilitazioni costruire momenti di confronto e di dibattito noi speriamo insomma che dopo questa esperienza che abbiamo fatto si possa ritornare in Ucraina si possa ritornare a fermare la guerra anche solo per un giorno perché insomma è un gesto molto forte in questi giorni se ne sta discutendo molto non soltanto noi anche tante situazioni internazionali europee e italiane discutono di come provare a dimostrare che è possibile fermare la guerra per un giorno perché invadere il confine significa creare un problema rilevante a chi sta invadendo l'Ucraina e dimostrare probabilmente i popoli riescono lì dove oggi i governi stanno sbagliando e stanno giocando un ruolo insomma che sto aggravando il conflitto perché la risposta di Putin alle sanzioni adesso mi pagate i rubli quindi decido io il prezzo ed è molto come dire molto chiaro che la propaganda poi si scontra appunto con quella dipendenza che si ha energetica e non solo da paesi come la Russia io insomma vi invito a questi appuntamenti che ho provato a condividere con voi perché è importante e non sarà di certo un percorso semplice ma se non lo affrontiamo insieme rimarremo spettatori io credo che queste sono pagine di storia molto importanti e si debba stare dentro a questa storia da da protagonisti per non commentare e sentirsi anche parte di un processo storico all'interno del quale siamo chiamati a prendere parola grazie 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 davvero Gennaro per aver condiviso con noi non soltanto l'esperienza ma penso dei punti di vista fondamentali che ci richiamano a quella costruzione di una presa di parola collettiva di un punto di vista collettivo che deve in qualche modo far scattare dei meccanismi dei piani di azione di emancipazione e di presa di nuovo di protagonismo appunto popolare sulle vicende che troppo spesso vediamo come relegate una sfera puramente istituzionale quando in realtà possiamo davvero fare tanto e questa ne è la prova ne è la prova anche il fatto che torneremo in piazza domani torneremo in piazza il 2 aprile per questioni che come capite bene sono molto contigue perché denunciare i cambiamenti climatici denunciare la devastazione ambientale denunciare il problema sostanziale dell'approvvigionamento energetico significa andare ad aggredire a mettere in critica quanto sta avvenendo in Ucraina e le sue ragioni profonde per questo credo che è una questione essenziale quella che è stata toccata e che ci invita davvero a prendere parole a scendere in piazza domani per il global strike di Friday for Future dove si scendere in piazza in tutto il mondo io vorrei lasciare spazio alle domande se ce ne sono è vero siamo qui la live ci dice che siamo insieme da già due ore e mezza però credo che gli spunti e i punti di vista che abbiamo toccato oggi siano tanti siano stati fondamentali quindi se avete delle domande senza imbarazzi siamo qui penso che i nostri ospiti sono ben contenti di provare a instaurare questo scambio e questo dibattito mani alzate siete sicuri? ok ah vai professore si ha sentito la domanda o le passo il microfono sì per lei era la domanda ah ok allora vabbè la domanda essenzialmente concerneva secondo il suo avviso se e come si sta nelle modalità per sviluppare quel tipo di come dire hackeraggio positivo in qualche modo collettivo in qualche modo un attivismo che faccia propri strumenti della magari la cyber sicurezza un'altra domanda laggiù? giusto? no ok sì devo rispondere adesso sì le chiederei rispondere ora anche perché c'è un'altra domanda esistono diversi canali esistono diversi canali dove questo associazionismo immateriale prende forma avrete sicuramente sentito parlare del dark web del deep web dove in realtà non è assolutamente vero ma è vero che si vende solamente droga armi o foto e video pedopornografici diciamo è un posto dove avviene anche questo ma avviene anche la possibilità di poter soprattutto perché nasce così ricordiamocelo soprattutto la possibilità di poter dialogare in maniera praticamente totalmente anonima attraverso un concetto di onion routing si chiama di routing a cipolla per cui sostanzialmente anche se tu ti colleghi dall'Italia vieni percepito come un utente che per esempio sta in Venezuela e quindi non si capisce manco bene da dove ti connetti e hai la possibilità di poter entrare in contatto conservando diciamo con buona con una buona accuratezza diciamo la tua la tua identità questo per esempio è quello che ha fatto nascere tutte le più grandi inchieste che sono nate grazie al dark web con con proprio la possibilità di poter di poter raccogliere delle informazioni e quindi di poter avere il classico informatore ve le ricordate no? quei film insomma Milano chiama Napoli risponde quella roba lì dove l'informatore era sempre uno che insomma lo scofiguro che incontravi in una in una in una cabina telefonica nel porto di Napoli diciamo cioè questo adesso voi questa cabina telefonica sul porto di Napoli se non sapete questi film andatevi a vedere perché questa è una roba che che diciamo non si può fare la magistrale senza aver visto questi film diciamo cioè è scritto nel nostro statuto fedeliciano che festeggiamo tra poco tra 800 anni ma a parte di scherzi questa cabina telefonica dove si incontrava l'informatore l'abbiamo resa in materiale e l'abbiamo resa in materiale facendone un'augmented version cioè una versione aumentata che permette di mantenere l'anonimato dell'informatore perché ricorderete se avete visto questi film che spesso e volentieri l'informatore in quella cabina telefonica ci restava secco perché ci arrivava prima quello diciamo che era l'oggetto della soffiata e poi quello che la doveva prendere per cui il dark web è stato utilizzato proprio per raccogliere informazioni ci sono casi casi diciamo noti in letteratura di questo e quindi viene utilizzato anche e quindi rispondo ho argomentato un poco diciamo nel rispondere serve anche per creare questo tipo di associazionismo e mille grazie a chi mi ha fatto la domanda non so chi è ma grazie 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 e ripeto la domanda perché purtroppo no ripeto io microfono perché purtroppo il professore non la sentiva no allora la domanda era essenzialmente riguardo la domanda è lunga la domanda è una domanda lunga mi sembra di capire però era essenzialmente riguardante provo a tirare gli elementi essenziali essenzialmente come le modalità con cui i collettivi collettivo anonymous chi lavora appunto in anonymous in questo tipo di modalità ha dei dei mezzi dei strumenti per effettivamente certificare che quel tipo di azione una singola azione forse è riconducibile corregimi se sbaglio ha esattamente loro diciamo smarcarsi da un'eventuale manipolazione oppure se effettivamente sotto la sigla di anonymous poi agisce qualcun altro ecco e giustamente ricordava Alfonso proprio in questi giorni Julian Assange viene deportato rischi di venire deportato negli Stati Uniti corregito se mi sbaglio per appunto pagare del un servizio in qualche modo reso all'umanità di in qualche modo come diceva giustamente Alfonso un po' un punto di riferimento nella controinformazione globale ecco di pagare quella con un prezzo salatissimo proprio quell'attività di cui abbiamo parlato grazie ad Alfonso che non conosco e che non vedo per la domanda che è molto articolata la seconda parte su Assange diciamo la lascio non c'è una domanda nel senso è una considerazione condivisibile peraltro ma è fuori diciamo dal contesto della domanda la domanda invece e gli faccio i complimenti è molto centrata perché ovviamente dal lato c'è una discussione proprio sul fatto che siamo sicuri che delle azioni di Anonymous siano realmente del gruppo di Anonymous e quindi del collettivo che in qualche modo prova a fare queste azioni dimostrative oppure qualcuno che vuole deliberatamente attaccare insomma la parte attaccata e non gliene frega niente dell'aspetto etico in questo caso quindi la domanda è una domanda centrata ed è una domanda che ci si pone da tempo e alla quale diciamo una risposta univoca Alfonso mi permetto di dirti non c'è la cosa che funziona la cosa che funziona è che però trattandosi di un collettivo in realtà Anonymous non è un atomo cioè fatto di tanti altri diciamo collettivi e gruppi che fanno hacking etico Professore scusi la devo fermare sono partiti gli annunci automatici automatici non tanto però gli annunci del dipartimento era per dire c'è un controllo vicendevole c'è un controllo vicendevole da parte di altri collettivi questo volevo dire No professore scusi abbiamo perso totalmente gli ultimi 30 secondi del suo intervento abbiamo ancora modo di ascoltarla però sono stati coperti dalle voci degli alzoparlanti che annunciavano la chiusura imminente della sala Ah ok 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 no pensavo allora no stavo dicendo No 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 non l'avrei mai interruttato No ma quando mai F e figura che problema c'è no stavo dicendo che quindi trattandosi non di una singola organizzazione ma in realtà di una di una di una organizzazione ad ambrella cioè esistono tanti collettivi che in qualche modo si possono anche controllare tra di loro alla fine si è capito in passato anche quando ci sono stati degli attacchi presentati come attacchi di anonimus in realtà fatti non da anonimus e l'hanno scoperso gli stessi attivisti etici diciamo quindi se ne sono accorti quindi diciamo hai fatto una domanda molto centrata perché è chiaro che semplicemente leggere su twitter anonimus ha attaccato questa cosa qua non è detto che sia anonimus questo è assolutamente è assolutamente vero quindi è centratissima la domanda grazie grazie a tutti per essere restati quasi tutti qui segno che avevamo molto bisogno di questo momento di confronto e ringrazio tantissimi i nostri ospiti per essere appunto rimasti per aver contribuito alla discussione da cui credo usciamo molto più consapevoli e più determinati a prendere posizioni quanto non fossimo prima e nulla rinnovo l'appuntamento al corteo di domani e ringrazio ancora tutti per la partecipazione sperando di poterci rincontrare presto in presenza con il professore Pescapè e a cui auguro una pronta guarigione grazie grazie della compagnia e dell'evento grazie grazie a tutti ciao Mattia grazie grazie ci vediamo presto a lei a lei professore ci vediamo presto ciao buonasera a tutti grazie